giusto due informazioni prima di lasciare la parola al professor Floridi che ringraziamo per essere con noi dopo l'intervento questa mattina alla pericolazione dei diplomi della scuola di dottorato di Polizia di Torina qualche informazione solo per la gestione dell'incontro come al solito siamo in streaming e doppiamente di streaming non solo del Centronexa ma anche quello di una web tv che ci sta seguendo e fincheremo la prima ora circa dell'incontro all'intervento del professor Floridi e il resto, quindi la seconda ora, osservazioni, domande e contributi anche a tutti gli intervenuti non credo che il professor Floridi abbia grandi precisioni di presentazione se ne avete la sua bio nelle vostre mani dirò solo che tra le altre cose il professore di filosofietica è dell'informazione all'università di Oxford dove dirige anche la parte di ricerca dell'Oxford Internet Institute oggi ci chiediamo se dell'intelligenza artificiale dobbiamo preoccuparci o meno e vedremo è garante questo qui lo prendiamo meglio ripetere sono un po' di troppo diciamo anche per chi c'è scusa ultima cosa prima di iniziare facciamo come al solito un brevissimo giro di introduzione, di preparazione negli organici banchi e poi lasciamo la parola al professor Floridi grazie grazie sono Chiara Dottagiano che ho fatto di ricerca sono di formazione linguista e mi occupo di ricerca nella possibilità grazie e un altro consiglio avvocato della professione io sono Massimo Durante e il signor Università di Oxford con Alcani io sono professore associato di Cina e Mediaglista di Palermo e sono giornalista sull'equipaprovole soprattutto sono un lavoro di circa 20 anni e mi occupo di politica e mi occupo di fare il tempo e potere nazionale il tema di notizia non esattando io sono ricercato di semiotica a questo caso diversità in termini anche la matica mi occupo di semiotica e media e invece a questo punto di iniziare la questione che è legata alle unità Marco Dottagiano associato di porto il cliente il dietro di tecnico e il Ugo Pagallo, Università di Torino, ed esponente di spicco della destra nexiana. Ormai dicevo ufficiale, me lo tengo stretto. Buongiorno, professor Cibello, a Ciancanezza. Buongiorno, Canobar, professor Cibello, Ciancanezza. David L'Adena, mister Sistema, Ciancanezza. Giuseppe Coutier, responsabile di comunicazione delle cellulose. Buongiorno, professor Ciancanezza. Buongiorno, professor Ciancanezza. Buongiorno, professor Ciancanezza. Sono Antonio Tomas, ma oggi sono il professor di intervento cronico, ho segnato il titolo anche io, è vero. Proprio, ho segnato il titolo anche io, è vero. Ho appunto il concorso di intervento cronico fino a iniziare l'anno, adesso ho cambiato, qui a tutto questo di tecnico, adesso ho cambiato in azienda, però rimane la passione per la robotica e le problemi di intervento. Il secondo mondo è il scopo di robotica. Michele Manghi, mi occupo di media e innovazione, sono giornalista. Daniele Bettini, giornalista. Antonio Lango, Ciancanezza. Sono Peria Bianco, sono laureato in questo tempo, mi occupo per cento netto di intervento. Sono Riccardo Valla, sono una paritone ex funzionale dell'accordo di intervento, sono un attualmente un attore, in particolare per il diritto dell'intervento. sono un attuale ex funzionale dell'intervento, in particolare per il diritto dell'intervento. Buongiorno, sono Paolo Fevento, scopo di intervento di intervento e informatica. Mi occupo, da un lato, di test con l'automato e l'archività di intervento, ma da un lato, se non ci esistono le applicazioni di intervento o di intervento. Mi pare che siamo tutti. Quanta strotta, il dottor Ambo, il paciente di intervento e informatica, la prima domanda da fare è, non mi ricordo se abbiamo deciso di fare l'inglese o l'italiano, preferenze? Credo che chi ci ascolti sia soprattutto il pubblico italiano, eventualmente, nello streaming, quindi forse non viene a farla nella lingua naturale nostra, ma va bene. Non mi ricordo, ma credo che le slides siano in inglese, quindi faremo questa cosa a metà strada tra anglo-socialo, sostanzialmente. Allora, prima una premessa veloce sulla natura del talk e sul ringraziamento. Questa cosa si è creata grazie a Juan Carlos, che ovviamente poi ha deciso di stare in Brasile al sole. Adesso quindi lo prendiamo in giro perché non c'è, ma invece sono molto grato, anche perché è sempre un grandissimo piacere tornare qui a Nexam. Io mi auto-invito spesso, quindi è vero che la cosa mi sta molto a cuore. Quindi non è la prima volta, spero non sia l'ultima, se il talk va bene. Due parole sulla presentazione prima di entrare in argomento. La presentazione è grossomodo organizzata in due parti, come vedrete. La prima è più leggera e tutti i ricercatori, le ricercatrici, gli ordinari, tutti quelli che stanno in robotica mi perdoneranno perché sparerò un po' sulla croce rossa. Qualcuno di voi si offenderà, non vi offendete troppo. Lo sparare sulla croce rossa significherà sparare su tutti coloro che sostengono che l'intelligenza artificiale è in arrivo, dove la A e la I del titolo sono maiuscole, non l'intelligenza artificiale di Siri che ti parla della televisione che capisce se tu gli mandi i comandi, la Samsung che poi fa casino perché questi dati chissà dove li mandano. No, no, quella vera, quella di Terminator, quella che è indistinguibile dall'intelligenza umana, l'intelligenza veramente artificiale, quella che i meccatici avevano a cuore, quella che quando meccatici diceva, ma qui il BM ci ha tirato una fregatura, questa non è la vera intelligenza artificiale, giocare a scacchi in questo modo, non è il modo in cui volevamo che gli scacchi fossero giocati dal computer. Così si fa ingegneria, invece noi vogliamo fare intelligenza iniziale. Ecco, che questa intelligenza artificiale non ci sia e non ci sia neppure all'orizzonte sarà argomento della prima metà della presentazione. La seconda metà, invece, sarà quindi una risposta, una prima metà, negativa alla domanda. No, non c'è da essere preoccupati, perché non c'è proprio il fenomeno. Mi chiedeva un collega al quale con cui discutevamo, ah ma quindi è come avere paura degli squali? No, è come avere paura dei fantasmi. Degli squali bisogna avere paura, perché ci sono i squali. Dei fantasmi non bisogna avere paura, perché non ci sono i fantasmi. Allora, questa è la prima metà, dove, di nuovo, lo dico l'ultima volta, qualcuno mi perdoni per se vado a toccare nervi vicini ai propri interessi. Invece, nella seconda metà, quelli che mi hanno perdonato nella prima, dovrebbero essere inquarati, perché la risposta invece è sì, ci dovremmo molto preoccupare. ma dell'intelligenza artificiale, con la A e la I, in uscola, quella che in altri contesti sarebbe preferibile definire come smart technologies. Di queste c'è veramente da preoccuparsi e cercherò di illustrare almeno quattro ragioni per cui ci si debba preoccupare, ma delle cose che stanno accadendo veramente, non di quelle che vengono presentate per ragioni, diciamo, di vendita del libro, di finanziamento pubblico acquisito o altro. Ora, come dicevo, si parte da lontano, da molto lontano, ma quando i giornalisti scrivevano l'inghia di teatro in tempi, e tanti, tanti secoli fa, avevano già capito che l'idea di avere qualcuno che facesse le cose per te era una bellissima idea. Questo è Vulcano che descrive a un certo punto questi suoi schiavi che girano, e sono dei trefieri, come potete leggere, che girano in un'altra stanza, e sono, come diceva, sono bellissimi a vedersi, fanno le cose da soli, e il finale è Marvelous, cioè, delle cose straordinarie, questi sono dei robotini che, delle app, insomma, che funzionano benissimo, fanno le cose per te. Tant'altro, se uno poi legge Aristotele, la descrizione di Aristotele dello schiavo, voi togliete la parola schiavo e mettete il robot, al suo posto è identica, è qualcuno che fa le cose per te, e che tu o non vuoi fare o non puoi fare. Quindi quella storia della robotica è antichissima, e l'antichissima anche, magari ne discutiamo durante il FNX, perché sarà un modo, anche proprio per capire, tocco l'argomento momentaneamente, poi ci torneremo magari dopo, per capire l'importanza di quanto sia bello non avere un lavoro. Questo si può dire ovviamente in un contesto accademic, dopo dirò un filosofo. Ma è dal giorno 1 che il programma umano è sempre stato quello di non lavorare. Allora, quando l'intelligenza principale comincia a dire preoccupiamoci perché ci toglierà il lavoro, bisogna capire qual è la preoccupazione effettiva, non l'assenza del lavoro, ma l'assenza di altre due cose che purtroppo sono state associate al lavoro da un po' di tempo o da sempre. Da sempre, che è il salario, e da un po' di tempo, che è lo stato sociale. Ma questi sono altri problemi che magari vedremo durante un FNX. Da sempre qualcuno dovrebbe fare il lavoro per te. Ora, ci sono due narrative, una è questa, ed è questa la prima parte della presentazione. Non voglio rovinarvi il film, se non avete visto, i nostri colleghi lo chiamano ex machina, ma è ex machina, ovviamente, ve lo sconsiglio. Molto. È un pessimo film, fatto male, pretenzioso, e non affidabile dal punto di vista di che cos'è il testo in Turing. Se poi avete tempo, il solito da perdere, perché no? Ma è un po' questo il robot che abbiamo in mente, il robot che dovrebbe conquistare il mondo, rimpiazzarci, la singolare, di cui parlerò male, per circa mezz'ora adesso. Questa è una delle narrative di cui abbiamo bisogno. È la narrativa della science fiction. lui non ha bisogno di introduzione. E questo invece è raccomandabilissimo. Allora, quali sono gli argomenti che oggi circolano da parte dei neosofisti? Cioè, di coloro che per guadagno personale, sostanzialmente, o per sciocchezza, io preferisco l'intelligenza del guadagno personale, anche se malvagia, piuttosto che alla sciocchezza di chi dice cose che di cui non dovrebbero proprio occuparsi. ma neppure o nell'altro caso la valutazione dell'individuo in questione è pessima. Allora, quali sono gli argomenti che vengono presentati per far sì che ci si preoccupi? Cioè, si va davanti al giornalista e gli si dice o le si dice guardi che c'è un problema, guardi che queste cose qua stanno andando a scatafascio per una serie di ragioni ovvie. La robotica o la science fiction di cui prima non è science fiction, questi stanno venendo dietro l'angolo. Il Terminator sta proprio lì la singularity è in arrivo. Allora, io adesso vi farò vedere una serie di argomenti che vengono presentati da chi sostiene che la singularity è in arrivo, che l'intelligenza artificiale sta per esplodere. Che noi sostanzialmente siamo nei guai per questa ragione. Il primo è un argomento bellissimo e si chiama se allora. Lo trovate ovunque, io non farò riferimento perché siccome sono imbarzati non faccio note chi ha detto queste cose ma vi assicuro che queste cose sono state dette da persone che hanno posti di lavoro in università anche prestigiosi. Spero che il riferimento sia sufficiente. Allora, prima cosa, ci dobbiamo preoccupare dell'intelligenza artificiale. Sta per arrivare ma perché? Se l'intelligenza artificiale dovesse arrivare ma saremo saremo nei guai. Per dirlo in un cattivo italiano, se arriva l'intelligenza artificiale allora siamo nei guai. Questo ragionamento è perfetto. Non fa una grizza. Chiunque abbia fatto il corso di logica uno sa benissimo che se allora funziona. Il problema è che funziona anche per i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Cioè, se arrivano i quattro cavalieri dell'Apocalisse siamo veramente nei guai. Verissimo, ma ci manca ma siamo ancora più dei guai. Com'è che non arrivano? E quindi l'allora non segue. E se mio nonno fosse stato eccetera eccetera allora era un flipper. Ecco, volgaramente è un riferimento romano che spero non abbiate capito. È vero di cui la presa sul pubblico. Sì, in effetti se dovesse arrivare il pregiante artificiale saremmo veramente nei guai. Ergo dobbiamo preoccuparci. No, ergo andiamo a vedere la premessa. La premessa non sussiste di cui dobbiamo stare tranquilli. Dice, però lei professore sta sottovalutando una cosa importante. L'altro argomento l'altro argomento è che si basa sulla possibilità. La pregenza artificiale è possibile. È possibile. Quel filosofo si riscala su e dice è possibile in che senso? E qualcuno si chiede perché adesso ci sono anche tanti sensi di essere possibili ma certamente ce ne sono almeno due per non parlare di tanti altri che ha fatto il corso di logica modale lo sa benissimo. c'è la possibilità che io domani verda il treno possibilissimo sono in ritardo e c'è la possibilità che io domani vinca la lotteria possibile ma poco plausibile c'è poi la possibilità che è semplicemente la negazione dell'impossibile cioè è possibile che un essere umano viva eternamente non c'è contraddizione nell'assumere che un essere umano viva eternamente e tuttavia io non consiglierei a nessuno di investire in questa possibilità allora c'è il possibile che è semplicemente la negazione dell'impossibile e poi c'è il possibile che è il più o meno plausibile ora quindi noi stiamo parlando dell'intelligenza artificiale che è quello che ne sappiamo del fatto che negare la possibilità dell'esistenza dell'intelligenza artificiale non è ragionabile quello che è ragionabile vuol dire che è altamente plausibile che non succederà che non ci sono ragioni per credere che si avranno a venire cioè che in realtà la possibility in questione è semplicemente una possibilità logica è la stessa possibilità che noi abbiamo che nel gettare quella moneta che è perfettamente bilanciata venga ogni volta che la lanciamo sempre testa è possibile sì plausibile no non succede perché perché ci sono tante delle ragioni allora il ragionamento qui avviene subito voi leggete il testo e spian pianino viene presentato il possibile come diciamo ma lei sta negando come va a negare la possibilità dell'intelligenza artificiale che ne sa il futuro il futuro è aperto giustissimo ma così è come è aperto anche il futuro della monetina che cade sempre di testa non succede allora qui dobbiamo eliminare non soltanto il se allora ma anche una possibilità che è semplicemente una possibilità logica sia di possibilità logica che di cui siamo parlato allora non stiamo lavorando su un piano scientifico se invece è di possibilità in termini di plausibilità di convenzioni effettive attuali che possono essere realizzate in un futuro beh queste devono essere mostrate non basta dire è possibile non c'è contraddizione nell'assumere che l'intelligenza artificiale avvene dice forse ma questi due argomenti magari li togliamo di mezzo perché in effetti sono un po' deboli allora per togliere di mezzo definitivamente io presentavo a un collega evidentemente la possibilità che qualcuno in Nigeria ti abbia veramente spendito 10 milioni di dollari è possibile oddio è possibile è possibile vorresti agire su questa possibilità non credo proprio perché è una possibilità appunto di non necessariamente impossibile ma non del fatto che ci sia la possibilità che qualcuno ti mandi lo zio che tu non hai mai conosciuto vivi in Nigeria da sempre ti manda 10 mili dollari basta che mi mandi il tuo conto cos'è insomma attenzione allora qui quello che ci stanno vendendo è uno scamo di Nigeria cioè l'intelligenza artificiale fino a questo punto è possibile nel senso di possibilità logica nella stessa misura in cui no i 10 milioni di dollari è prima dalla Nigeria avete capito come funziona qui il giochetto va bene allora se allora non va bene il code certo se il code è in realtà è una possibilità logica allora non ci siamo aperti una parte però c'è qualcosa di più qua professore lei sta negando in realtà non capisce non sa non frequenta non si è documentato su il valore esponenziale della crescita dell'intelligenza artificiale da sempre questa cresce fa sempre di più fa sempre di meglio crescita esponenziale ma che è questa crescita esponenziale allora la crescita esponenziale vi dimostra questo questa è una bella cosa che è uscita sull'economist nel 1929 i tacchini pesavano quasi nulla intorno a 13 kg dopo un po' scusate 6 kg dopo un po' sono arrivati a 13 kg sono raddobbiati i tacchini in effetti io ve lo ricordo il tacchino di un tempo era un animaletto adesso ci sono degli tacchinoni enormi allora tu prendi è la crescita esponenziale e arrivi a Turchzilla è perché ovviamente il tacchino raddoppia ogni po' da anni quello raddoppia raddoppia tra un po' diventerà più grande di noi diventerà più grande del pianeta diventerà più grande dell'universo la cosa migliore è mangiarsene tutti subito ammazzate quando sono mangi perché il tacchino è una bestia feroce ma questa cosa però a me non mi convince ma come prima ti piaceva l'exponential adesso non ti piace qual è la differenza tra l'exponential della mia rumba che torna poi a cederlo bottino che pulisce per terra a costi sempre minori con minore energia sempre più efficiente di più di più di più però il caffè non lo fa male perché ruba pulisce per terra lei il caffè non sa neanche come neanche lo spelling del caffè e il tacchino qual è la differenza che queste strofavozioni non hanno alcun senso cioè non ha senso dire certo la vita umana tanti anni fa la media 30 anni poi 50 60 70 80 con ciò di questi diventiamo immortali no sei un cretino non hai capito proprio come funziona perché in quella bolla c'è un massimo dentro il quale ci si sta sviluppando e poi si arriva a una funzione di stasi e allora nella iconologia classica quello che noi dovremmo avere non è questa curva che va su e grossomodo l'argomento qui funziona in termini eccetera c'è un dito che punta in realtà le cresciti sono fatte così e qui è il luogo giusto al Politecnico per fargli vedere queste cose sono curve logistiche cioè c'è un momento di crescita c'è un momento vagamente esponenziale e poi c'è un momento di stasi questo se lo si fa vedere a qualcuno che ha un business qualsiasi lo capisce tutto subito il prodotto va vende vende sempre di più poi comincia a diventare un po' meno crescita arriva a maturità meglio trovare un altro prodotto perché quello lì non è che da oggi tu ne vendi uno due quattro otto sedici trenta due tessanta quattro ma tu non funziona così in nessuna parte del mondo allora di nuovo intelligenza artificiale in che modo ha questa cosa esponenziale ma c'è forse però qui beh ha introdotto la questione del tempo allora bisogna fare conti con il tempo se allora non funziona se il culto non funziona se l'esponenziale non funziona però prima o poi questa cosa che è prima o poi prima o poi non è un argomento prima o poi ha questa pseudo scientifica rappresentazione ora si ingrani per chi non per fortuna non è mai sentito parlare che ha dato lui o che ha dato lei perché sono certe cose pornografiche che non dovrebbero circolare è quest'idea che si raggiunge un punto come vedete lì quel punto verde di intersezione oltre il quale l'intelligenza delle macchine parte diventa superiore si autogenera si autocontrolla prende il controllo del mondo e noi restiamo indietro la linea rossa continua a svilupparsi bassa mentre le macchine arrivano oltre ora guardate un attimo questo grafico questo grafico lo presentasse uno studente di primo anno sarebbe bocciato su non c'è una medica è tutta fantasia anzitutto il fatto che time ma la secola distanza 1950 2000 è la medica che stiamo utilizzando voi capite che quello zero sta qualche secolo fa ora noi in teoria avremmo avuto un'evoluzione dell'intelligenza umana nel giro di qualche secolo ma non è vero e l'intelligenza umana si sviluppa su no migliaia 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 di anni quindi già la linea rossa è una bufala non è vero noi siamo piatti da da sempre allora quindi la linea rossa non ha senso poi quella curva che si impegna di che cosa stiamo parlando il bello del mescolare le carte guardate a sinistra nella colonna delle y intellectual level power intellectual ma da quando in qua noi attribuiamo a questo povero computer termino qui una potenza intellettuale in realtà il gioco l'ha già risolto tu cominci a parlare della potenza di calcolo in termini di potenza intellettuale la potenza di calcolo cresce ergo cresce la potenza intellettuale spingo no spingo l'acqua non a chi faccia attenzione alle parole allora questo genere di grafica che poi va molto è la prima che trovate su internet ma di queste ce ne sono in abbondanza è prima di senso in realtà questa costruzione esponenziale non ha senso allora la costruzione di calcolo in realtà non è molto sensata si comincia un po' a giocare in difesa la difesa è ma immaginiamo pure che tu abbia raggiunto questa intellettuale non ha raggiunto non ci sta in effetti ancora oggi cercare di far capire a questo computer che la preparazione era stata fatta in powerpoint da un mac è già un miracolo infatti stiamo presentando un pdf perché questo povero computer non lo capisce e andiamo avanti così però certo quella è una questione di responsabilità allora uno degli argomenti che trovate sempre in questo suppone di roba è è meglio essere un po' attenti meglio essere self è meglio piuttosto correre pochi rischi che lasciare tutto nelle mani di computer impazziti terminei che va avanti a destra a sinistra una volta che questi non sono stati controllati i rischi saranno pochi ma se dovesse avvenire poi siamo finiti alla tuo stesso criterio voi dovete portarlo nel metto di questo genere in modo che i marziani non vi leggiano quello che succede nel vostro cervello dice ma non ci sono marziani eh lo serve insomma è nel dubbio non si sa mai dice ma lei allora che fa torno in aereo a Londra veramente ma che cosa che gli hai ricardo meglio sempre non prende l'aereo i rischi si fanno sono i rischi calcolati il fatto che noi qualche cosa lo sviluppiamo inclusa l'intelligenza artificiale inclusa la povera rumba che fa tutto un bel lavoro fanno calcolare sulla base della plausibilità di nuovo dei rischi corse ora i rischi qua sono non minimi non ci sono proprio in termini di realizzazione di intelligenza artificiale la lai è ben sorry è in realtà una mossa retorica per mettere paura dice è nel dubbio ma il dubbio non ce l'avevo perché ce lo dovevo avere comune ora e poi doverlo eliminare attraverso operazioni di tipo precauzionale questo è il più bello di tutto questo io l'ho sentito diverse volte allora anche in questo caso noi siamo abbiamo avuto torto prima in passato we have been wrong before certo qualcuno in passato ha detto non riusciremo mai a volare e adesso ci sono gli aerei qualcuno ha detto non riusciremo mai a rompere l'atomo ma adesso ci sono gli nucleari vedi vedi qualcuno ha detto qualunque cosa poi sia sicuramente successa e vedi che adesso è successo allora con questo ragionamento qualcuno lei dice l'intelligenza artificiale non succede e con lo stesso ragionamento domani vedrai che daremo la prova che è successo allora il we have been wrong before è un bellissimo argomento che io raccomando a tutti saluto ai miei studenti perché permette di vincere qualsiasi argomento non importa quale scemenza uno stia dicendo perché chiaramente uno prende A che è stato negato dimostra che poi A è accaduto poi prende B che è una qualunque scemenza prende B come negato e con questa analogia dice che B avverrà in futuro ma questo è esattamente una cosa che apre tutti i lucchetti ma perché mi spacca tutti non perché hai trovato la chiave cioè questo apre qualsiasi porta se peter che le sfonda sfonda semplicemente tutte le porte è un argomento in realtà troppo poco con questo argomento voi dimostrate tutto è il contrario di tutti allora funziona anche certo per l'intelligenza artificiale ma purtroppo funziona con tutto funziona anche con l'immortalità umana noi in passato abbiamo pensato che non ci sarebbe stata soluzione per una malattia qualsiasi per le cataratte oggi le cataratte si curano è una banalità in passato abbiamo pensato che eravamo tutti mortali domani domani con questi ragionamenti analogici uno fa soltanto pasticce allora anche in questo caso non la stiamo andando da nessuna parte resta ancora un'ultima spiaggia del poveretto che sta cercando di convincere sostanzialmente il governo di dargli 10 milioni di dollari per occuparsi degli alti rischi dell'intelligenza artificiale che sta arrivando qqqqqt e c'è la expert survey e io chiedo l'esperto e qui qualcuno me lo deve dire letilli come stanno andando le cose e chi meglio dell'esperto può dirmi o non dirmi se l'intelligenza artificiale sta arrivando sulle nove e allora noi da chi andiamo questa tra l'altro purtroppo basta poco ci vogliono due SCOGLE su Google c'è questa ed è stata fatta da un collega esattamente più o meno nella misura in cui adesso ve la descrivo da chi andiamo? andiamo a chiedere, fammi un po' pensare allora, se io voglio sapere se esistono i miracoli, fammi un po' chiedere ai vedi io chiedo, chiedo a un sacerdote ma i miracoli esistono? tutti i sacerdoti che abbiamo intervistato il 99% sostiene che i miracoli esistono oh, dico ragazzi il 99% non è che esisti esa qui adesso io nello survey vado dagli esperti di intelligenza artificiale e chiedo, è possibile avverrà il 99% degli esperti di intelligenza artificiale mi dice che sta per arrivare sì, cioè questo è il modo in cui tu conduci la scienza oggi ma siete mati andiamo a chiedere magari a uno scienziato cognitivo che dice, uno scienziato dice ma tu ce n'hai uno in casa è la moglie guarda Luciano noi veramente non sappiamo neanche che è l'intelligenza per cui io non so di cosa state proprio parlato noi facciamo un'eroscienza non abbiamo idea di cosa sia l'intelligenza umana riprodurla boh, cioè io non so l'oggetto di cui sto parlando come faccio a riprodurla ma tu capisci subito che magari il 99% degli scienziati che si occupano di scienze cognitivo di nuova scienza pensano che tutta sia una pandoccia che se invece si sia parlato di buffa, di soldi che devono essere spremuti dal governo allora la extra survey io farei attenzione cioè il modo di farlo in maniera intelligente quello di chiedere a chi ha un vested interest nel far sì che tutti credano che sia possibile non è il modo migliore ci siamo allora siamo un po' arrivati appunto al povero expert che bans le cose a suo c'è poi quest'ultimo argomento e siamo quasi arrivati il not yet questo è bellissimo perché questo qui in realtà è un caso di friendly fire e di I hate friendly fire questo friendly fire purtroppo non è presentato da chi non crede parola sbagliata da chi semplicemente constata l'assenza di qualsiasi condizione di possibilità attuale dell'intelligenza artificiale quella con la maiuscola in futuro ma questi sono quelli come me che purtroppo dovendo parlare con i martini che invece pensano che la scritturazione che sia dietro l'acqua mi dicono semplicemente ah ma lei allora pensa che non succederà mai sarà impossibile tu sei uno scienziato o un filosofo serio e l'impossibile è una parola forte la usi con molta cautela l'impossibile è un triangolo con quattro lati l'impossibile è il contraddittorio perché ha fatto due corsi due ma manca uno di poco di logica l'impossibile è come il random perfetto è una cosa rarissima ma tu sei costretto a dire no guardi non è impossibile allora è possibile no lei non ha capito il mio caro giornalista io non ho detto che l'impossibile è una cosa veramente rara che dire che se è possibile non è possibile però si ricordi lo scamo nigeriano è possibile in quel senso lì allora il friendly fire qui è che molti di noi quando interrogati dal giornalista poi ci sono costretti allora sì o no mi dica se ne esco con no yes non ancora e molte moltissime grandi esperti mi dicono guarda quello che sappiamo noi ancora non succederà non succederà non oggi non domani non nei prossimi vent'anni resta sempre lo il tarlo questo è un argomento usato poi per portare acqua al mulino della singola resta sempre il tarlo ma no yes ma allora il futuro è un giorno di questi e questo purtroppo è un friendly fire allora noi un testo ce l'abbiamo e cominciamo a entrare nella seconda parte del tono in realtà un piccolo testo per capire come se l'intelligenza artificiale è arrivata oppure no ce l'abbiamo non è un gran testo non si chiudeva con Massimo Durante è in realtà una cosa molto molto semplice elementare ed è il testo di giuri ora qui al Nexa non devo spiegare che cos'è il testo di giuri però magari per quelli che ci stanno sentendo al volo non so se vedono anche le immagini i nostri non quelle allora ci siamo noi da una parte in una stanza e ci sono due agenti di cui non conosciamo la natura nelle altre due stanze uno è un computer e l'altro è un essere umano non sappiamo chi è chi in questo caso non sappiamo se A o B è un computer o un essere umano noi siamo C giuri nel 1950 ricordate nel 1950 5.0 è importante questo 5 ritorna e dice presentando il test ma secondo me non c'è modo di capire che cos'è la 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 risposta alla domanda can machine think perché lui essendo un genio mi dice nel paper dice perché non abbiamo idea né di che cosa significhi machine né di che cosa significhi significhi think geniale voglio dire una lezione che noi poi ci siamo scordati però si può fare un test è un po' come dire io non so chi è che sa guidare la macchina però gli faccio un test se passa il test è uno che sa guidare la macchina qualunque cosa sia il saper guidare la macchina allora noi mettiamo un uomo o una donna poi nel suo caso c'era anche tutto un problema di quanto tratteremo insomma dall'altra parte è una macchina se voi nel fare domande per 5 minuti il 70% delle volte non capite chi è chi beh la povera macchina avrà passato il test sarà tanto intelligente quanto almeno l'essere umano che voi avete scelto di mettere dall'altra parte della stanza bene come stiamo andando con questo test in giù questa è una cosa di una banalità brutalità elementare cioè ridurre l'intelligenza umana a questo significa veramente ridurre non so tutta la cucina alla pizza margherita cioè proprio parlare dell'ABC però non c'è meglio meglio di niente allora siamo arrivati a a piante da bene come stiamo andando col test di Turing allora Turing nel 1950 scrive nel 2000 le macchine passeranno il test perché il 2000 perché era nel 1950 ci abbiamo 5 vita aggiungi 5 decenni e arrivi al 2000 fanno così a Cambridge adesso vi farò vedere questa è la scienza come la fanno a Cambridge e allora aggiungiamo 50 a 2000 non si è proprio vista questa intelligenza artificiale poi non si è raccorta di stupidità in giro ce n'è tanta ma di intelligenza artificiale ancora no uno dei jokes che provi online è cioè printer non fa e il tizio si dice it's right there cioè come fai a non trovare la printer sta là davanti ma perché povero ha prezzo giustamente non trova la printer però vi ragioni quindi jokes allora il 2000 non ha avuto successo nel 2018 Eric Schmidt Google in un'intervista dice Eric Schmidt è molto più intelligente di altri dice non io ritengo che l'intelligenza artificiale passerà testa in teoria ma dice molti nell'ambito dell'intelligenza artificiale ritengono che oh secondo me quando è che l'ha detto questa cosa nel 2013 cinque fingers cinque anni 2018 tanto così va la scienza umana allora lui nel 2013 dice ma si fa cinque anni oh se ce ne avevamo sei di vita saltavamo un anno benissimo nel 2018 adesso ci torneremo su questo 2018 poi c'è Kurzweil il padre della single writing che spara una cifra per tutto improbabile lui dice nel 2028 dice mi sto proprio che c'è c'è uno studio dietro c'è qualcuno che le cose le sa visto la traiettoria esponenziale il code ha fatto tutto poi c'hanno i compiti questi c'hanno i big data ma ragazzi c'hanno i big data questi sanno tutto per il 2028 vado a calcolare no è perché lui nel 2028 avrà un canale e non gli torna comodo che quando al suo compleanno l'intelligenza non gli assalga sarà arrivata non si fa così di nuovo poi non devo presentare un altro collega di Cambridge il quale sostiene che una delle grandi preoccupazioni dell'umanità oggi quello che è la preoccupazione primaria sulla quale dovremmo investire è esattamente l'arrivo di intelligenza artificiale dimentichiamo il fatto che non ci sarà comunque un ambiente di cui preoccuparci nel 2115 se continuiamo così e mi dice secondo me l'intelligenza artificiale arriverà nel 2115 e tu ti chiedi ma quando l'ha detto non l'avrà mica detto nel 2015 e nel 2015 l'ha detto 10 figli 100 anni allora essendo più curvo di curing curing la raddoppiata un curing doppio invece di 50 100 massimo anche 200 ma dai che ti siamo punto punto e virgola cioè per ricordare la cosa ma metticene anche un altro 70 esatto e soprattutto una cosa geniale è sparare una cifra quando tu non ci sarai più nessuno potrà arrivare a più nel 2115 te l'avevo detto che non era così allora nel 2115 nessuno di noi ci sarà per dimostrare che l'intelligenza artificiale non è arrivata ma nel 2018 sì invece e torneremo tra poco nel frattempo come stanno andando le cose questo è il test in più di come è stato fatto l'ultima versione domandina la macchina non poteva entrare nello spazio di parcheggio perché era troppo piccola che cos'era troppo piccola? risposta di chi non sai chi dall'altra parte non sono una circolaria sulle gambe no io so che si è ancora più perché non sai differenziare se era troppo piccola la macchina o lo spazio dove parcheggiare qualunque essere umano capisce subito quella frase la cap non pite le parking space it was too small e che sarà troppo small la cap o il parking space ovviamente i compito poverini la semantica non la gestiscono giustamente perché sono fantastic engines e dispiace appunto ma siamo ancora lì ora vorrei anche rappresentare questo è la non learner prize di cui ho fatto anche il giudice la prima volta che arrivò in Gran Bretagna e questa volta ve la posso raccontare velocemente quando abbiamo fatto questo test la giornalista accanto a me della BBC cominciò a fare domande avete capito il gioco si fanno domande risposte si cerca di capire chi è chi prima o dopo questo non me lo scorderò mai più perché è come prendere un ceffone da uno che passa per strada si avvicina e ti dà uno schiaffo e va via resti allibito un stupe fatto la tizia chiede ti piace il gelato si no oddio non si capisce chi e chi e chi sarà adesso il computer o l'essere domande guardi io tanto non funziona così se lei fa tutte le domande così non ne riusciamo io mentre faccio domande cerco di fermare la giornalista e lei dice no faccio un'altra domanda questa volta ce l'ho io una domanda guardi adesso questo qui lo metto qua tu risi guarda scrive credi in dio si no ecco ha passato testi giuri e la risposta è lei che non ha passato testi giuri purtroppo signora mia c'è una minoria intelligenza che le imprenditori anche con le macchine allora la povera macchinetta giustamente non può rischiare perché se tu fai domande se no l'attrezzo non stai ben inscrivibile rispetto all'essere domande la domanda che nel frattempo stavo facendo io era la seguente che è una domanda molto romana per chi ha seguito queste cose la domanda romana sarebbe stata la seguente che io non posso perché non era comprensibile i quattro evangelisti sono tre Pietro e Paolo questo tipico di jokes romano però loro era un contesto britannico io quindi ho spiegato guarda le tre capitali della Gran Bretagna sono due Liverpool e Manchester che c'è di sbagliare di questa frase uno mi ha risposto guardi lei non ha capito niente ha detto tre poi due Manchester è una confusione completa e l'altro non ho capito la domanda me la può ripetere adesso mamma mi può pensare chi è il computer invece chi è perché è poverino giustamente allora non ci siamo pronti allora arriviamo alla sfida della melanzana che io ho lanciato nei punti di Eric Schmitt che però lui in questo momento non ha ancora raccontato se nel 2018 una benedetta macchina passa il test di Turing io mi mangio un piatto così di melanzana che odio adesso siamo anche a un record ve le mangio tutte torno qui me le mangio davanti a voi perché purtroppo il fatto che i computer facciano cose sempre meglio e sempre di più al posto nostro non ha nulla a che fare con il fatto che lo facciano come lo facciamo noi è tutto un altro mondo è tutto un altro mondo non c'entra niente e siamo soltanto generando confusione la realtà invece è questa rumba io la raccomando a tutti se voi avete un frigorifero una lavastoviglie e una lavapiati compratevi rumba perché da oggi in poi non puoi niente più per te è un attrezzo bellissimo funziona benissimo indistruttibile pulisce tutto si firma ha sensori è bravissimo ovviamente è una lei perché a casa nostra rumba è un'amica noi queste cose qui le sappiamo in memoria adesso le faccio vedere così al volo cioè queste sono le escalation di cui parliamo la quantità di potenza di processazione dei dati i costi che ormai vanno sempre a scarapaccio non costa più niente processare tutti quei dati se voi guardate qui su questo numero qua io sfido chiunque a leggerlo perché quello sarebbe il costo dell'equivalente fatto a 100 dollari oggi di un ipad 2 se noi l'avessimo comprato nel 1940 quelle cifre lì le leggono soltanto generali americani nessuno è in grado di leggere una cifra del genere ecco quello sarebbe stato il costo della potenza di calcolo di un ipad 2 fatto pari a 100 dollari oggi o meglio fa qualche anno fa 2010 nel passato ma questi dati noi ce li abbiamo e lo sappiamo bene questi hanno generato una massa di dati straordinarie tutti i dati che abbiamo grossomodo li abbiamo creati negli scorsi 10 15 anni tutti 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 quelli che abbiamo quello che precede è un nulla una sciocchezza noi nel 2020 avremo circa 35 zbyte che poi se sono 35 45 32 una massa enorme da quando siamo usciti dalle caverne a oggi ne abbiamo creati meno di uno di zbyte di roba allora capite che nasce una trentina se guardi un etto un etto e mezzo ma faccia due etti signora non ha importanza nel senso che se sono grossomodo 30 zbyte che abbiamo creati e uno tutta la storia dell'umanità è chiaro che tutti i dati che abbiamo li abbiamo creati come massa nello scorso poco decennio o giù di lì questo crea enormi problemi che magari possiamo discutere dopo ma tutto questo ovviamente la escalation di quanto processiamo quanto costano posto tutti i dati che si accumulano chiaramente la comunicazione avviene tra le macchine giustamente ci manca dire questo è un dato fatto per lui l'abbiamo passato prima del 2010 il punto in cui ci sono più macchine che parlano tra di loro piuttosto che esseri umani se oggi dovesse arrivare qualcuno da Marte e occuparsi di semiotica e comunicazione probabilmente tratterebbe gli esseri umani come un fenomeno marginale nel senso che poi in termini di quantità di dati che si scambia di comunicazione sono le macchine che parlano noi siamo lì a fare qualche cosina ma insomma la vera massa di dati che va e viene è machine machine se Cisco da cui viene questo diagramma ha ragione quando ragionamento aggiungeremo il 2020 ci saranno circa 7 oggetti che si fanno tra loro per ogni persona vivente o questo tutti inclusi inclusi anche le persone che non hanno mai fatto una telefonata di vita loro in cui vuol dire che tutti quelli in questa stanza ce ne avranno almeno 35 gli oggetti perché ne saranno altri che non ne avranno nessuno quindi la cosa è mostruosa ed è chiaramente indicata tutte quelle lucette che vanno e vengono quando torniamo a casa e si parlano tra di loro e noi non sappiamo neanche di cosa stanno parlando tra di loro ora questo va tutto bene ma che cos'è che è successo mentre tutto questo avveniva vi ricordate quello che si dice quella che va giù quella che va su il bel cerchio di dati e tutta questa massa di informazioni che stiamo gestendo questo di nuovo siamo nel posto giusto dove non dover spiegare che cos'è questa immagine ma è un'immagine banale di un braccio meccanico e lo spazio disegnato da quel braccio meccanico almeno in inglese si chiama envelope il termine italiano non lo conosco non so se si usa lo stesso è lo spazio dimensionale in cui quel robot riesce ad operare con successo allora io qui utilizzando quella parola in realtà utilizzo l'inglese per dire quello che noi abbiamo fatto è la ragione per cui le nostre macchine funzionano sempre meglio non è perché noi abbiamo creato macchine che hanno a che fare con successo con il mondo esterno voi provate a comprare un prodotto a Ikea e a scatenare ruba nel costruito a metterlo insieme good luck manca un bullone il bullone che si è spanato dove sta la tavola le istruzioni non si capisce niente ma non riescono più essere umani con due PhD a Oxford a metterlo insieme a quel tavolino riferimento biografico serio la povera rumba allora in realtà quello che abbiamo fatto è stato costruire sempre in più e questo lo stiamo facendo oggi e questo è una delle cose in cui ci dobbiamo un po' preoccupare stiamo costruendo il mondo per adattarlo alle nostre macchine cioè non abbiamo creato oggetti che si adattano al mondo stiamo trasformando il mondo in modo che sia una grande envelope all'interno del quale queste macchine che poi restano abbastanza semplici nella loro operatività hanno sempre maggior successo allora è un mondo che si sta trasformando in machine friendly non sono macchine che sanno avere a che fare con il mondo questo per esempio un po' più di concreteria questi sono i dati europei più recenti e quando si guarda a chi va online in Europa 500 milioni di persone questa riga vi dimostra che oltre il 20% degli europei è online quando non è né in ufficio né a casa e dove stanno? ma dove stiamo? ma stiamo in questa envelope non usciamo più adesso tra un po' vi spiego perché ma noi stiamo sempre dentro la lavatrice lo spiego tra un attimo dalla lavatrice non stiamo più uscendo e in questa lavatrice in cui operiamo le macchine operano molto meglio di noi non c'è driver's car se non c'è anche il GPS la mappa i sensori e tutto il benedetto tagging che gli va in conto è quello che insieme ovviamente a tutta una serie di algoritmi di umana provenienza che permettono alla macchinetta di arrivare da A a B a C allora che c'entra la lavatrice? è questa qua questo è una cosa abbastanza seria in alto a sinistra trovate quello che si descrive in termini un po' pretensioni una ontologia l'ontologia qui è il fatto che io costruisco quella scatola intorno a un robotino facile facile nessuno come si diceva in inglese in his right mind pulirebbe i piatti come fa una lavatrice o una lavastoniglia la lavastoniglia c'è queste due male che girano la prossima volta è entrato in casa e io sto lì mi portate la mani dopo allora perché? le due male girano ci metto un po' di sapone e poi costruisco un bel box la envelope intorno al computerino semplice semplice quello in mezzo è l'errore il modo in cui noi concettualizziamo la robotica del domani un robot come noi che pulisce piatti come me quello in alto a destra è il robot che io voglio per Natale perché è quello che fa da interfaccia tra due spazi tra due ontologie l'ontologia che si chiama cucina e l'ontologia che si chiama lavastoniglia e prende i piatti dalla cucina e li mette nella lavastoniglia al momento quell'interfaccia sono io e quell'interfaccia dovete sparire ma c'è necessità che quell'interfaccia sia quindi è un processo abbastanza elementare che il robotico può fare benissimo il giorno in cui noi trasformiamo tutta la cucina in una envelope non è che all'improvviso come la giornalista mi disse oddio oddio è arrivata l'intelligenza attiviciale siamo noi che abbiamo trasformato il mondo per renderlo machine friendly allora tutto bene fine del discorso per fortuna rilassiamo e andiamo a casa saremo tutti contenti questo processo che ho cercato di illustrare in maniera leggera poi si può fare un discorso un po' più complicato se volete di enveloping the world cioè di trasformazione del mondo in machine friendly in realtà crea delle serie sfide sfide sulle quali sì che bisognerebbe investire non su Terminator arriva o non arriva l'intelligenza artificiale arriva o non arriva quella serie della science fiction e questi quattro challenges adesso ve le illustro un po' velocemente perché non abbiamo tanto tempo la prima ve le dico un po' in inglese ma tanto poi ci intendiamo è la cosiddetta replace go agency noi per tanto tempo siamo stati gli agenti smart intelligenti dell'universo e c'eravamo solo adesso siamo rimpiazzabili ma la rimpiazzabilità nostra è sensabile questo in genere spiazza il giornalista che ti sta intervistando e dice ma allora lei crede di un'intelligenza artificiale e tu gli spieghi che non ha capito e proprio li comincia a ragare no lei non ha capito il fatto che questi qui questi attrezzi che noi costruiamo faranno sempre meglio e sempre di più il limite è il cielo come dice in inglese è lo sky qualunque cosa noi facciamo oggi è praticamente rimpiazzabile come vi potete vedere in un attimo da un robot più un po' intelligente nel senso banale del termine questo è il quadro che si presenta a destra credo che voi abbiate già visto questa statistica è un po' vecchia del 2013 ha fatto scalpore anche perché i due colleghi di Oxford Osborne Mike è ancora con noi mentre Frey è andato via hanno analizzato come dice appunto la la slide cosa avviene se si comincia a pensare alla computerizzazione del lavoro nel mercato americano la data source lì per quelli che non riescono leggere la labor statistics una volta che noi cominciamo a pensare alla probabilità della computerizzazione di un particolare lavoro e quindi alla distribuzione di chi lo perde e chi lo mantiene allora quella bella grafica a sella cioè così a uno da un lato ci sono quelli che non lo perderanno ma in mezzo ci sono quelli che vanno di qua o di là e dall'altro sono quelli che lo perdono completamente allora tanto per portare un paio di esempi classici cioè chi fa i massaggi stiamo tranquilli perché il massaggio tu non te lo vuoi far fare da un robot non si sa mai magari poi spinge un po' troppo di sbarca due gossole però il paralegal il paralegal no paralegal va via non c'è proprio futuro in una società in cui abbiamo robotini cose intelligenti anche l'app il paralegal è finito cioè quello che fa in archivio e trova tutte le sentenze di quella cosa ecco non ci vuole niente allora diciamo questa completa no partizione delle app tra chi è completamente rimpiazzabile e chi non lo è affatto ora però guardate dei dati che in realtà non sono stati molto studiati e questo è successo perché a me è avvenuto di fare una consulenza con il ministero dei trasporti in Finlandia ci vuole anche un po' di fortuna ogni tanto questi avevano rifatto lo stesso studio hanno detto guardi questo studio non è così hanno molto convinti i colleghi questo non lo sa nessuno ma lo faccia sapere al mondo lo dica guardi che la cosa è più complicata lì la descrizione sarebbe più complicata e va su e giù vedete che i lavori alcuni saltano alcuni no alcuni su alcuni meno perché la differenza tra destra e sinistra e questo il paralegal nella nostra stanza sarà contento è che mentre a destra i colleghi di Oxford se voi leggete il paper è un paper molto serio dicono giustamente noi non prenderemo in considerazione l'impatto della legislazione a sinistra hanno fatto il contrario hanno detto proviamo anche a vedere cosa succede se la legislazione fa la differenza e se la legislazione fa la differenza come ha sempre fatto e come farà succede quello alcuni non lavori sì alcuni no ma il mondo è un po' molto più complicato che c'entra la legislazione con la robotica c'entra tantissimo analogia e poi ad esempio analogia immaginiamo starei parlando del mondo dell'impiego all'interno delle centrali nucleari da un lato non prendiamo in considerazione gli aspetti legali dall'altro sì e poi affichiamo questa alla Germania dove a un certo punto hanno deciso che il nucleare lo togliamo politicamente con un gesto di tipo normativo non è che non è possibile semplicemente da oggi a domani la Germania smette di avere nucleari allora quel mondo lì lavorativo è finito cioè tu vuoi fare l'ingegnere nucleare in Germania non credo proprio diversi medie allora è chiaro che la legislazione ha un altissimo impatto su dove va il mondo del lavoro e quindi anche sul successo dell'intelligenza artificiale intesa in questo modo questa era un analogia l'esempio è il seguente se domani qualcuno dovesse decidere che indipendentemente dalla fattibilità o meno della tecnica in questione se lei ha un taxi ci deve essere un guidatore umano dietro il volante la driver's car che ha un enorme impatto a destra non ha alcun impatto a sinistra è possibile che saremmo così sciocchi da impedire ai taxi di essere drivers beh qui forse è un ragionamento anche storico ci sta bene voi quanti treni conoscete che vanno da un punto all'altro senza alcun guidatore sopra treni con la rotaglia dentro va dentro allora forse il driver's car lo programma all'aeroporto a Napoli forse meno la questione è aperta allora io non vi sto dicendo il problema risolto non ho la gente è molto complicata ma è complicata perché ci sono altri fattori che noi non stiamo prendendo in considerazione quando recentemente adesso arriverà anche in Italia un collega ha presentato qualche settimana fa lo stato delle professioni Richard Susskind è molto bravo hanno studiato cosa succede se tutto questo avviene per i medici per gli avvocati per gli architetti non abbiamo discusso il seguente argomento perché l'analisi è molto semplice arriva la tecnologia e questa professione disparisce forse perché la tecnologia è anche arrivata ad esempio nell'ambito della musica però non è che non ci sono più musicisti c'è anche l'altra trasformata rivoluzionata ma ci sono ancora orchestri ci sono ancora più principianti c'è gente che va ancora al conservatorio allora le cose stanno più complicati io non sto dicendo allora non c'è problema anzi il problema è vivace e in realtà è proprio qui dovremmo studiare ma la cosa è molto complicata complicata anche dal seguente diagramma questo qui è una qualsiasi banale curva maziana ci mancherebbe questa è applicata al cosciente di intelligenza purtroppo qualunque popolazione una premia umana la curva è quella non cambia noi tutti speriamo di essere dal 100 al 180 purtroppo sappiamo che qualcuno sta dal 100 al 20 non in questa stanza forse però non c'è niente da fare allora il problema è che la curva resta ferma e invece le domande dal punto di vista lavorativo della nostra società di informazione stanno spingendo quella curva sempre più a destra un conto è passare da un mondo agricolo a un mondo industriale dove invece di togliere le staffe e i cavalli o qualche altro devi non di zappare la terra vai a impullonare qualche altra cosa l'altro conto è chiedere a quello poi di fare il webmaster allora c'è in realtà una piccola pallaccia qui che purtroppo è spesso sembra essere spesso presente nell'economist e cioè che l'industria tanti ne distrugge tanti ne crea ma la storia non è proprio così semplice in realtà il mondo di oggi crea lavori molto più complessi e questo abbiamo visto stamattina al Politecnico dove appunto avere il dottorato dal Politecnico di Torino in ingegneria è condizione necessaria e a volte insufficiente per trovare lavoro allora forse non è proprio banale dire che tanti in agricoltura tanti in industria tanti in industria tanti in industria in informazione forse sì forse no tutto da vedere almeno poniamoci la domanda perché questa semplice equazione che ogni innovazione tecnologica distrugge e crea tanto quanto non sta in pieno va rivista va studiato seconda questione di cui preoccuparsi seriamente la nostra predecibile libertà questa di nuovo non è science fiction non è roba singolare di 2018 3522 il numero che volete in mente questo c'è scritto per chi non riesce a leggerlo 2013 è già avvenuto questa è la corte di filadelfia che decide di usare il computer forecast per predire il comportamento criminale futuro e determinare sulla sua base l'entità della pena cioè mi dice guardate che siccome tu hai questo profilo e io sospetto che tu se non ti do una pena abbastanza robusta ci ricadi un'altra volta allora mi sa che rincaro la dorsica vuol dire che io forse ti do una spintarella in più sulla base di cosa? dei dei algoritmi cioè di predecibilità della nostra libertà anche parlare di manual report è una falsa riga vuol dire confondere quella che non è più science fiction con invece una realtà che sta avendo di giorni fattibile dovremmo continuare a fare così stiamo delegando alle macchine queste sono cose gravissime che però stanno avvenendo prima ancora che la riflessione si faccia critica e prima ancora che la legislazione poi decida se è una cosa fatta bene oppure no questo è pericolosissimo ho trovato questo che sia stato in Gran Bretagna sta arrivando anche dalle parti noti poi sempre in questione di libertà ma in questo caso si parla di autonomia cioè di capacità di autodeterminazione l'autodeterminazione non è necessariamente libera vuol dire semplicemente che mi do regole da me stesso un termostato può essere autonomo senza essere libero tanto così per capire da che parte stiamo allora questa autonomia è anche influenzabile e questo è un altro fattore per cui preoccuparsi molto vi porto un piccolo esempio così di nuovo stiamo un po' sul concreto questa è la spesa della cosiddetta programmatic advertising a livello mondiale la proiezione per la 2017 quindi siamo già in territorio abbastanza noto nel 2017 arriveremo a 33 miliardi di dollari che sono tanti allora se fare un conto che il GDP della Svezia sono 600 capite che 33 non è proprio non sono noccioline che cos'è il programmatic advertising è l'equivalente nel mondo della pubblicità di quella che è è la lotta tra macchine nel cyber world cioè bisogna arrivare ad occupare uno spazio che è lo spazio della pubblicità ad esempio su Google quello spazio è venuto a un certo costo c'è un certo modo di fare il bid per quello spazio l'occupazione di quello spazio deve avvenire micro 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 secondi per micro 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 percentuali di soldi e quindi soltanto le macchine possono fare soltanto la differenza artificiale mi permette così come anche in finanza e tutto il resto di poter vincere e arrivare a pagare il meno possibile per il massimo quantità di spazi nel modo più utile nel mondo eccetera eccetera perché questo esempio perché poi queste operazioni finiranno poi per invenzione alla nostra economia questo è advertising che poi finirà per determinare se io avrò acquistato questo bicchiere o invece quella tazzina presentandomi di volta in volta i prodotti in un modo o nell'altro anche qua la influenzabilità dell'autonomia umana è ad alto rischio e c'è di che studiare e preoccuparsi poi in tutto questo c'è una tendenza a delegare e quindi a dipendere da sistemi complessi che è straordinario oggi di nuovo vi porto un piccolo esempio sempre per restare un po' sul concreto questi sono dati sui quali quasi nessuno è in disaccordo vengono dalle Nazioni Unite dal Department of Economic and Social Affairs ed è una proiezione di dove andranno a vivere dove vivranno gli esseri umani nei prossimi anni arriva fino al 2050 per ovvie ragioni dei soliti 5 di e passano proiezioni abbastanza ben accette non particolarmente problematiche vi dicono quanto crescerà la proporzione urbana ora questo va sotto il titolo di smart city ma tanti di queste city non saranno poi così smart ma grosso modo il numero percentuale della popolazione arriveremo a numeri straordinari l'umanità vivrà nelle città la campagna tutto il red c'è poco da fare questi sistemi sono ad altissima densità tecnologica lo sappiamo benissimo e di nuovo non va spiegato qui a Nexa ma che significa questo significa che la fragilità di questi sistemi è pericolosa e quindi tanto più noi finiamo per affidarci costruire la nostra esistenza sulla base di questi sistemi tanto più dovremo occuparci di questioni di rischio di affidabilità di delega di chi controlla la cosa e questo non è che non si stia facendo ci mancherebbe perché noi ci veniamo appunto da una discussione di tesi di dottorato che si occupano già di questo in maniera molto attenta ma è qui che bisogna investire non sull'arrivo di Terminator perché il Terminator siamo noi se qualcosa andrà a scatapascio sarà perché l'avremo costruita noi male senza pensarci prima o senza preoccuparcene al tempo giusto allora le due domande che io con le quali vorrei chiudere sono queste qui noi che infosfera stiamo costruendo questa è la domanda sulla quale vorrei vedere un po' più di sforzo piuttosto che preoccuparsi dei fantasmi e in questa infosfera che stiamo costruendo ma quale progetto umano stiamo perseguendo è anche qua possibile che tutta la preoccupazione sia legata a inflazione GDP e numero di posti di lavoro quando questa è semplicemente la benzina dentro l'automobile ma non vi dice dove vogliamo andare cioè è una condizione necessaria per avere un futuro ma non vi dice quale futuro vogliamo raggiungere e questo è momentaneamente come si riempie disappogli nel senso è un peccato che la politica oggi sia ridotta a economia e l'economia sia ridotta a condizioni necessarie del progetto umano senza avere l'abilità di proiettare verso il futuro il dove vorremmo andare che cosa vorremmo fare con questa nostra spera che stiamo costruendo qua mi sembra che ci sarebbe molto più da investire piuttosto che nel preoccuparsi arriverà o non arriverà la focalisse elettronica allora tre considerazioni al volo dobbiamo pensare di più e meglio dobbiamo costruire o design meglio e dobbiamo essere molto più attenti in quello che stiamo facendo queste sono questioni che stanno molto più a cuore di quanto non sia invece la presenza dell'intelligenza artificiale e siccome siamo partiti con un classico chiudiamo con un classico da Omero a Shakespeare e qui ci vorremmo una voce un po' un po' più seria una poncia un po' più decente della mia questo è dal Giulio Cesare e qualcuno ricorda cosa a man at some time are masters of their faith the fault dear Brutus is not in our stars but in ourselves that we are underlings schiavi se noi saremo schiavi e non saremo in grado di aver costruito la società del futuro non sarà perché sarà arrivata la società del futuro in cui l'intelligenza artificiale esplosa non sarà perché qualcuno ha passato il test di Turing perché il mio computer non avrà intelligenza non capire alcun di niente non avrà semantica non sarà la differenza tra quello e il falso tutto non gliene fregherà niente se io sono morto purtroppo sarà una responsabilità totale completamente e solamente umana ora di questo preferiamo dimenticarcene e preoccuparci dei cavalieri dell'apocalisse e dell'inzeria artificiale che non arriverà domani e con questo possiamo passare al Q&A grazie allora le obiezioni non sono belle non è una bella obiezione non grazie obiezioni domande chiarimenti insomma abbiamo un po' di tempo abbiamo qualche tempo abbiamo quindi insomma c'è tutto tempo per ti far chiarire vedere esplorare io sarò gentile cercherò di essere gentile farò del mio meglio per essere gentile quindi i lavori che andranno a sparire sono quelli in cui le persone tra i venti e il centro lavorano adesso che poi si allora i lavori che vanno a sparire se uno vuole invece di basarsi su statistiche diciamo di tipo quantitativo guarda un po' alla base concettuale sono i lavori che noi facciamo quando noi siamo delle interfacce quando il signore stava nell'ascensore e tu gli dicevi al signore mi porta al quinto piano quello che entra in buono spingeva e ti portava al suo quel lavoro è sparito perché lui faceva la interfaccia tra te e la portò niente la signorina che sta alla cassa e praticamente prende da te il barattolo lo passa davanti al computer e lo vi da te dicendo di sono 3 euro quella è un'altra interfaccia tra te e la macchina allora quando tu cominci a pensare che questa è una forza un po' lunga la tecnologia ha quasi a queste tre fasi ci sono c'è la fase 1 in cui c'è essere umano tecnologia natura esempio lascia lascia il martello ci sei tu cioè lascia e c'è l'albero poi c'è il momento in cui c'è ci sei tu c'è la tecnologia e c'è un'altra tecnologia va bene ma c'è tu usi una tecnologia per controllare un'altra tecnologia poi c'è il momento in cui c'è una tecnologia che usa un'altra tecnologia per controllare un'altra tecnologia quindi si passa da uno uno due uno due tre noi siamo entrati in una fase uno due tre perché perché la differenza che ne dicano alcuni intellettuali italiani ormai un po' anziani che si occupano di semiotica molto famosi che hanno insegnato anche a Polonia e che non hanno capito proprio come funziona digitale la differenza è enorme con Gutenberg non è proprio la stessa cosa la differenza è che fino a Gutenberg noi ci siamo occupati di riproduzione e disseminazione dell'informazione da teori in poi noi abbiamo aggiunto una cosa fondamentale che è la processare l'informazione autonomamente che è un'altra cosa cooperativa il momento in cui tu hai tecnologie che sono in grado di processare l'informazione autonomamente tu hai tecnologia che opera tutta l'automaggia per altra tecnologia e tu ti puoi tirare fuori allora non c'è più bisogno come do di intermediare allora tutti i lavori che tu puoi immaginare dove in realtà il lavoro che stai facendo è un'interfaccia che dovrebbe sparire è facile che sparisca le driver scale sono esattamente un'interfaccia in cui io traduco le istruzioni del GPS in manovre dell'automobile ma noi due non si potrebbero parlare tra di loro e io mi leggo il giornale ma io che bisogno c'è di leggere le cose tradurle in operazione poi le operazioni mandano un altro segnale io le ritraduco è chiaro che io sono in quel loop uno di più un extra una cosa di cui non c'è bisogno ecco tu immagina tutto lo scenario del mondo del lavoro e chiediti quel lavoro lì è un lavoro da interfaccia e allora quel lavoro non durerà però se mi viene un dubbio visto se fosse così tutto automatizzato costerebbe in teoria di meno se no non c'è convenienza tanto da la categoria così posso più recitare con la forza lavoro umano allora non c'è convenienza non c'è convenienza e secondo me a un certo punto verrà a mancare quella necessità che ne abbiamo in esempio del tazio di parlare con qualcuno quando viaggia oppure del manufatto artigianale che ha i suoi difetti ma è bello da avere del quadro certo e quindi si verrà creare una domanda più ampia per magari prodotti che non richiedono che sono puliti certamente elevati ad esempio ci potrebbe essere un mercato in cui tu puoi scegliere se prendere il taxi driver o il taxi col signore con cui vuoi parlare poi io prendo subito quello driver se chiamo il taxista però non lo sopporto ne posso più sentire tutte le storie gli ultimi tre che ho preso tanto l'argomento è sempre lo stesso questi immigrati che arrivano ci occupano allora forse tu sei più gentile e simpatico ci vuoi parlare io però noi avremo la più scelta va bene ma questo più seriamente si si tratta quindi poi di operazioni di tipo cost benefit analysis e questo va da sé una cosa invece che va messa in luce è che in realtà tutta questa automazione ha trasformato moltissimi dei lavori che erano fatti da altri in self serving cioè noi alla fine noi in Italia siamo ancora più o meno abituati adesso in Italia non la frequento ma a qualcuno che per fortuna ancora apre e mette la benzina nella macchina per te gratuitamente non è un costo aggiuntivo il costo della benzina include anche il signore di gentilmente ma in Gran Bretagna non esiste proprio non va da sempre tu ti alzi esci prendi la bomba la metti dentro ora ora gli ingegneri della sala sanno benissimo che quella lì è un'operazione banale operazionalizzare quello a livello robotico se noi ci avessimo pensato sarebbe stata una sciocchese l'operazione da fare oggi per le auto elettriche e che mi raccomando gli ingegneri in una stanza non ci fate uscire dalla stanza dalla macchina per prendere la cosa e metterla dentro la macchina perché insomma ci abbiamo pensato in anticipo automatizzare questa operazione perché è banale però quel lavoro lì ad esempio di interfaccia quello sparirà ma perché i costi sono altri e al contempo tu li puoi scaricare sull'utente la signorina del supermercato sparisce non per ragioni di occupazione anche per quello ma perché il macchinario a disposizione permette a chi poi giustisce il supermercato di scaricare su di te l'operazione di prendere la scatoletta e passarla davanti allo scanner allora in realtà quello che succede è che sei tu che spingi i bottoni dell'elevento e sei tu che passi davanti allo scanner e sei tu che metti la piscina nella macchina allora il mondo quando si dice non ci saranno più lavori però ci sarà tanto ricarico su di noi tutti noi faremo un po' di più quando si diceva appunto grande mare o anche sempre il medico alla segretaria ma il medico oggi si parte la macchina sul computer di nuovo si è auto employed allora le cose sono molto più complicate di quanto semplicemente le righe tirate i lavori spariscono mi piace molto più l'analisi finlandese che dice facciamo attenzione perché la domanda risposta diciamo da un mercato questioni ledali non è piano non è facile capire come andrà il futuro però ci sono rischiato e su questo devo studiare e questo è quindi il mio invito focalizziamo su questo non sulle fantasie strane quindi ci sono un problema sulla distribuzione dell'edito che ci piace allora anche non so c'è un ottimo libro di molette che parla molto di questo di questo discorso di quanto in certi settori non c'è niente da fare per guerra noi dobbiamo garantire umanamente un reddito anche via alcuni dall'altra parte mentre invece a livello di risultati noi andiamo sempre di più postando le nostre economie sulla parte invece delle altre allora cosa succede? succederà che comunque noi riusciamo a portare una parte della popolazione di una poveretta ad avere un reddito sostenibile per la nostra pubblica globale all'interno dei sistemi economici rispetto alla città allora c'è questa possibilità o trovi delle soluzioni estreme potrebbero essere e questo è un po' troppo che deriva la domanda politica che non si è fatta in cibo se io blocco perché non riesco secondo me il mio modello di valore il mio modello di guerra a utilizzare in modo produttivo questo cambiamento economico che dicevo secondo me è bloccato e secondo me a questo dedicano le domande politiche per esempio e questo è un male perché per il livello economico è un produttivo che in realtà è un problema economico nazionale o piuttosto avete un cittadinanzo cioè arrivi in conto in cui non c'è anche bisogno di lavorare perché per i semplici fatti di attore cittadini italiani ad esempio ho un reddito unico che è un po' allora chi si occupa di voi si vuole delle ricerche che vuole informare come si può di tutto questo è molto problemato perché da una parte non posso non assecondare diciamo un'economia che viene male e si distribuisce a livello globale al rete tanto più lavori stupidi in Cina e meno lavorativi da noi dall'altro però non posso perdere diciamo in bocca al lupo in bocca al lupo in bocca al lupo d'altra parte allora dobbiamo immaginare un mondo che i robot portavano tutto e distribuiremo un reddito però a questo punto la politica si finisce alla valutazione di vivere perché sarà anche la politica non lo so lei ha ragione ha molto ragione secondo me è un problema molto serio è un problema che noi non stiamo affrontando perché lo stiamo affrontando con politiche economiche almeno in Gran Bretagna ma direi in tutta Europa con politiche moderni non all'altezza della informazione ma moderni nel senso 8-9 centesco allora io purtroppo avrei questa impressione che lei ha ragione su tutte e due le analisi perché le due analisi sono uno come stanno andando le cose e l'altro è come dovrebbero andare cioè stanno andando nella direzione di una di un limitare il welfare e tra virgolette forzare chi il lavoro non ce l'ha ad averci qualunque questo sia questa non è un'idea molto buona se noi veramente vogliamo parlare di qui al futuro lungo lungo serio la maratona quella nella quale siamo qui per generazioni non oggi non domani non la rielezione del prossimo governo di qui a dieci anni ma il futuro è veramente lungo ma se noi questo lavoro pensiamo a salvare questo pianeta supponiamo cosa che non è detta affatto ma immaginiamo di riuscire a farci non si arriva a 2, 3, 4, 5 gradi di riscaldamento il mondo sopravvive e stiamo ancora qui tra un paio di secoli ma pensiamo veramente che tra un paio di secoli con tutta l'ingegnerizzazione che abbiamo avuto saremo in grado ancora di avere un welfare che impone alla gente di avere comunque qualunque lavoro senza cominciare ad esempio a dirgli sposta quel mucchio da lì a lì e poi lo rimetti lì oppure vai e pulisci le strade strade pulite meglio di niente allora secondo me ci sarebbe in realtà delle politiche pulinginanti come quella appunto ora in corso di test in Finlandia che lei appunto giustamente ha già menzionato cioè riconoscere che noi siamo eredi di miliardi non milioni di miliardi e miliardi e miliardi di vite umane il cui sacrificio in un modo o nell'altro ha portato al nostro benessere attuale e come figli di famiglie ricche l'umanità oggi è figlia di miliardi di individui che sono morti per far sì che noi stessimo bene oggi magari non lo vogliamo fare ci sono altre questioni ma noi oggi il benessere attuale lo dobbiamo a chi è a livello di noi non lo dobbiamo essere al fatto che siamo nati a New York e siamo andati a Berkeley o al fatto che siamo nati a Roma e siamo finiti a Tara allora l'umanità oggi è figlia di questa storia e in quanto tanto dovrebbe beneficiare come figlia di tutta questa storia del benessere che è stato costituito da tutti ma allora se il pianeta è di tutti e il benessere della storia è di tutti allora l'idea di avere un po' di questo benessere distribuito in maniera più egalitaria tra tutti non è una idea sbagliata quello che succede subito dopo cioè se dovessimo andare in questa direzione il problema successivo è si potrebbe ottenere appunto uno scollamento tra avere un lavoro e avere un salario o un qualche reddito benissimo questo permette anche lo scollamento tra non avere lavoro e stare in piazza a lamentarsi perché quello a cui il politico preoccupa non è che non hai lavoro è che vai in piazza a lamentarti del fatto che non hai lavoro perché se tu non hai lavoro stai a casa e stai buono ma questo non succede e continui a votare questo va benissimo allora al politico potrebbe andare bene così il problema che succede il se allora successivo è ma che società andiamo a costruire una società che passa praticamente il proprio tempo a guardare la televisione perché questa è un po' triste o questa è proprio una sciocchezza senza vedo un compagato che scalpita no forse no allora bufo che di tanto in tanto manche pubblicamente parliamo è è poco divertente ma la premessa è che siamo sulla stessa pagina cioè non c'è bisogno di nessuna fantascienza per capire che un'intelligenza artificiale debole chiamiamola così sta già cambiando le qualità e questo mi sembra la premessa al tempo stesso però quando vedo come sintetizzano il tuo messaggio con in quel modo c'è sempre c'è sempre il rischio di decontestualizzare farti dire cose che non stai dicendo esempio dai we are transforming the world to adapt to our machines e roger reddits agli stati uniti le città sono in funzione delle autostrade ma la volta mica dall'intelligenza artificiale dagli anni 50 ti risparmio a un'esperta come te di tutti i discorsi sulla verificazione del mondo e via dicendo chiaro quello che sta cambiando è il fatto che abbiamo fatto un salto qualitativo nello sviluppo tecnologico e il fatto che lo dici tu quindi ti posso anche citare di dire la verità dell'informazione la filosofia dell'informazione è perché in effetti ciò che è cambiato è la trasparenza con il quale vediamone la macchina una macchina che processi informazione proprio perché cominciamo a capire anche noi a quale livello a stazione possiamo essere l'agentità in questi termini per cui non bisogna attendere il terminator per capire che anche macchine stupide o agenti artificiali stupidi ci stanno cambiando le carte in campo tu hai sottolineato quattro sfide reali di cui una l'economia ne abbiamo già parlato per le altre due al meglio per il numero due numero tre libertà e autonomia come dire abbiamo più anticorpi le predizioni informatiche per cui guarda io ti arresto preventivamente per fortuna da noi ancora sarebbero incostituzionali ma almeno abbiamo gli anticorpi sull'autonomia anche qui abbiamo come dire degli elementi che ci per cui arrivo il quarto punto cioè la delega la delegazione perché qui dove secondo me siamo anche nell'economia vedi se i lavori spariscono o non spariscono cioè l'aspetto di la sfida più sfida delle tue quattro dal mio punto di vista perché più sottile ed è qui dove voglio approfondire il discorso con te riguarda proprio la nostra crescente delega di decisioni e di impegni cognitivi a macchina cioè in altri termini il criterio di demarcazione non è io delego ciò che è automatizzabile perché noi hai fatto un genno prima ormai il 90% delle transazioni finanziarie quindi il problema non è io delego ciò che è automatizzabile perché stiamo già delegando fior di compiti cognitivi che una volta erano appannaggio esclusivo dell'essere umano dato che insomma sei uno dei più illustri esperti di etica e abbiamo il piacere di errati così spesso attorno di loro qui come come ci puoi aiutare ad aprirci altri occhi rispetto a se vuoi la più visibile delle sfide una scusa della delega sì questa della delega mi sembra l'hanno messa per quarta non perché sia l'ultima che mi preoccupa è una sorta di ordine logico nei confronti di quello che è una modalità di azione fino ad arrivare al fatto che una volta che si è la propria libertà e la propria autonomia sono state messe un po' in crisi cioè poi un'altra crisi ulteriore che è quella di fare ad altri o ad altri le proprie operazioni io da un lato la delega mi sembra una cosa che abbiamo sempre fatto che è positiva nel senso che poi libera il tempo e liberare il tempo è liberare l'unica risorsa che poi abbiamo effettivamente è preoccupante quando la delega come giustamente dicevi è fatta in un contesto in cui insieme a delegare l'operazione si delega anche la gestione del rischio cioè questo è molto vero ovviamente in contesti ad alto altamente sensibili nel senso inglese della difesa ma è vero anche la gestione dell'energia oppure degli aeroporti tanto più noi siamo tentati nel far fare ad altro quello che abbiamo fatto noi fino all'altro ieri tanto più stiamo anche dicendo non ci prendiamo noi il rischio di gestire questa particolare operazione questa quest'azione in realtà noi diamo tutto il pacchetto cioè io delego non soltanto il fare x ma anche gestire il rischio del fare x e lì che la preoccupazione è seria non è tanto nel dire delego il mio robottino a cucinare il risotto domani ma gli delego anche però il rischio di bruciarlo tanto per stare un po' un esempio banale ora questa di nuovo molte delle cose mi spiace a un certo punto bisogna fare anche le cose un po' troppo seriamente ma molte delle cose che abbiamo discusso oggi vanno anche sotto il concetto ombrello della sovrapposizione di problemi che noi nell'epoca moderna abbiamo visto come identici avete presente come diciamo Massimo in un tempo ci sono quelle figurine che uno non riesce a spellare cioè tu lo sai che sono due che una è incollata all'altra però è difficile riuscire a togliere la pellicola ecco molti dei concetti in cui noi operiamo oggi in questa epoca per la quale non abbiamo neppure un termine per descriverci che non è postmoderna perché sarebbe ridicolo ma non è moderna sono fatti di concetti che sono appiccicati l'uno con l'altro uno di questi è esattamente la delega e il rischio cioè tu quando tu dai a qualcuno la delega di fare qualcosa al contempo non soltanto ti finiti qualcuno qualcuno faccia quel qualcosa ma gli stai anche dicendo occupati anche del rischio che le cose vadano a scattarci ma questo noi nella nostra intelligenza diciamo di disegno della società del futuro dovremmo essere in grado di spellare queste due cose e di legare senza dare anche la questione del rischio siamo in grado come stiamo facendo noi oggi stiamo facendo un'operazione scusate per il momento filosofico un po' serio un'operazione moderna cioè stiamo dando quella figurina in cui la fotografia e il dietro della fotografia che si può togliere per far sì che la fotografia sia incollabile cioè quelle due cose che noi abbiamo sempre trattato come un unico come almeno moderno e stiamo dando a agenti artificiali o assistenti più o meno complessi l'azione e il rischio che quell'azione comporta tu lo capisci che facendo così allora sì che il discorso effetto diventa altamente problematico ma non è che non c'è soluzione la soluzione sarebbe cura di smettere di pensare in termini moderni e pensare in termini contemporanei e dire attenzione queste cose si possono di capo noi possiamo scollare la delega dell'azione dalla anche attribuzione della gestione del rischio al sistema al quale abbiamo delegato l'azione lo stiamo facendo no lo possiamo fare sì ma questo significherebbe non essere più moderni vogliamo non essere più moderni no ancora cioè noi oggi purtroppo giustamente perché le sformazioni sono attenute nel giro di un ventennio ragioniamo ancora in termini e in un box concettuale che è altamente 8-9 centesco e questo vuol dire che il pacchetto gioca a tutti allora quando questo qua per entrare scusate un momento un po' troppo astratto rientriamo nel concreto quando tu poi parli appunto con quella NATO al centro in Estonia oppure con quella NATO che hanno non della nascura della US Navy che stanno sviluppando il progetto di Politecni i nostri colleghi se erano tutti gli altri e gli spieghi questa cosa loro non lo capiscono ma io voglio automatizzare tutto e due voglio automatizzare voglio far sì che il robottino al quale dico fai quest'azione sia anche quota un quota responsabile non è possibile questa idea è l'idea che noi abbiamo avuto a tempo di Aristotele in cui tu allo schiavo dicevi pulisci per terra e sotto pulisci per terra e sotto pulisci per terra sono cavoli tuoi ma quello non è un robottino quello è un essere umano che puoi responsabilizzare un robottino puoi fare responsabilizzare allora si entra in un lungo completamente demenziale in cui invece di dire ripensiamo al moderno e scolliamo queste due cose si dice insistiamo sul moderno continuiamo ad andare avanti e facciamo sì che ci sia una logica leontica che permetta secondo le regole di implementare nel nuovo robottino tutti questi valori perché così sia finalmente responsabile cioè ritorniamo nell'idea che si possa fare l'intelligenza artificiale come me questo secondo me è andare in un microceco che sia su un microceco con pazienza ma un microceco ad alto rischio cioè dove quando tu la delega l'hai mollata in blocco dell'azione che della responsabilità dell'azione insieme a rischio se le cose vanno male perché mi gioco alla fine poi sono cavoli in questa rea e devo andare e questa è proprio la mia preoccupazione se posso quindi se ho anche qui è un sei un sei grande se ho capito bene la legittimità di delega a macchine è inversamente proporzionale al livello di gestione di rischio con cui abbiamo a che fare e dall'altra parte però tu mi concedi che la percezione di ciò che appare come rischioso dipende anche da più che ancora che della citabilità sociale della compattezza valoriale di una comunità vi spiego è un discorso rischioso se penso a vecchi discorsi tipo non c'è privacy in Giappone ma per capirci sappiamo che in Giappone hanno una percezione completamente diversa rispetto agli incidentali rispetto alla robotica e come dire questo incide sulla percezione del rischio e quindi sul livello di tolleranza che tu hai rispetto ai problemi politici di Delega in altri termini penso che il problema politico del delegare sì o delegare no alle macchine certo che ha a che fare con il rischio ma non dipende soltanto dal rischio nel senso che abbiamo già magari da Scialdurati deciso di delegare penso c'è prova evidente è evidente che la crisi finanziaria cioè il disastro Wall Street sia partito o meglio sia stato ad un certo punto aumentato a dismisura da agenti software che hanno preso le loro decisioni ma io che per concludere magari passare a un altro momento è proprio quello di dire bisognerebbe evitare di automatizzare anche la gestione dei rischi cioè si possono automatizzare e delegare le operazioni ma non i rischi che queste operazioni possono generare perché lì servirebbe invece la vera intelligenza non quella operativa del se allora non quella diciamo più logico algoritmica serve l'intelligenza di qualcuno che ci capisce qualcosa e non stiamo andando in questa direzione giusto perché sono tipo quelli della Nato che non capiscono davvero cioè non so se si può spiegare con l'esempio il risotto il decoupling perché magari non è proprio più costante però la domanda che ha fatto adesso il professor pagallo era nella direzione ancora moderna se posso cioè non devo essere rischiato ma non è che faccio il decoupling davvero mi sembrava di poter riassumere che la logica fosse ma quella mi va bene ma è quella che capisco non riesco invece a intuire la parte in cui io dico si ti delego tutto ma non la gestione del rischio cioè la delega della finanza te la do però in una maniera contemporanea ecco questo mi manca il differenziato davvero cerchiamo un punto di tenere magari con qualche esempio concreto i piedi per terra questa è la differenza tra quando la delega viene in maniera totale chiamiamola moderna per cui io delego tutto in maniera parziale quando il soggetto umano resta parte del loop è in the loop nella decisione che deve essere presa e poi in maniera a metà strada dove il soggetto umano è on the loop per cui immaginiamo ad esempio che per la private scar la delega sia totale è totalmente delegale basta fin poi in realtà non è totalmente delegale in realtà c'è un guidatore dentro però più volte dorme c'è salita però certo se si rompe una ruota se buca se la travesca buca ma dico ma chi la ripara ve lo siete mai chiesto perché quella la travesca quella guida da qua ma la ruota non la da mica riparare se il taxi buca che facciamo aspettiamo che ne arriva un altro perché c'è un drone che arriva e vediamo nella fantascienza se il taxi buca se il povero tassista esce con il cric il vat allora c'è quindi il tassista che sonnichi e poi quello che succede già con gli automobili decenti che fanno moltissime cose per te però tu stai sempre no poi c'è la terza opzione quella appunto aeroportuale chiamiamo così in cui tutte sono driver scan ma c'è una stazione di controllo che vede dove stanno andando con la parola le pergono bloccano se succede qualcosa quindi sono on non sono in ma sono on the way allora queste sono tutte modalità operative in cui c'è un decapling di gestione del rischio e della operatività di quello che deve essere fatto io vedrei molto bene uno studio un po' più attento e articolato di questo decapling in modo tale che quando si parla appunto di cose come driver scan non si dicano semplicemente delle cose da quel punto banale da domani ci saranno automobili che guideranno se stessi da qui a lì noi venderemo il giornale ma queste sono sono robili che sicuramente non ne vogliamo discutere a Nexa mentre invece pensare sì ci sarà ad esempio una fleet di taxi con una centrale di comando dove c'è ad esempio un signore che controlla 10 e li controlla allora c'è ancora tutta altra storia non so se questo aiuta un po' a capire dal moderno al contemporaneo come si può fare il salto la logica che c'è dietro è semplice fare un decapling dell'azione da implementare versus rischio che quell'azione può comportare il rischio lo lasciamo agli umani l'azione la deleghiamo alle macchine si potrebbe dire meglio io veramente parlavo dei signori della US Navy adesso adesso i signori della Marina militare americana questo discorso non lo vogliono sentire però sì è noto che attacco di le armi ogni situazione e sopra e poi infine la pubblica a fare la spesa per fare il diciamo da rive di istituzione quindi è ovvio che la cosa più importante per come resi ha potenziali attacco di non c'è decido più di tendenza per questo non è la visualizzazione ma si dice che ho una teleponazione certificata di la guerra e poi la l'acqua per esempio ma però ecco siccome questo è il più giusto tanto se anche il posto è chiaro che da rinforzo sarebbe chi andiamo a cos'era un approccio verso al disarco però secondo me siccome le armi non si vengono più da me dovrebbe essere un disarmo informatico disarmo sensoriale bisognerebbe controllare tutte le ricerche scientifiche per impedire che diventano per coloro questo sarebbe un trattato internazionale allora lei ha ragionissimo torniamo appunto a quella decisione che facevo prima tra come stanno andando le cose e come dovrebbero andare le cose stanno andando esattamente come dice lei vale giustamente apposto ma stanno andando nella direzione giusta no cioè stanno andando in questa direzione si giustamente quando qualcuno si munisce di una capacità nucleare o di attacco cyber di tipo automatico chi fa quel gioco poi si deve munire anche lui anche lei della stessa capacità e quindi si gioca al radunio questo è come stanno andando le cose non è il progetto che dovremmo perseguire allora qua subentra il filosofo normativo che invece di dirvi come vanno le cose perché questo lo leggiamo nei libri di storia mi dice come dovrebbero andare come potrebbero andare e potrebbero e dovrebbero andare in maniera diversa allora lei è quello che lei ha presentato è esattamente una continuazione del moderno con altri mezzi se mi permette la battuta con Klauswitz la continuazione del moderno con altri mezzi significa passare dal nucleare al cyber in modo continuativo dicendo abbiamo sempre fatto così continueremo a fare così si pongono ovviamente delle questioni di differenza grave magari se ne cito una ma la logica è la stessa allora il mio invito sarebbe quello di dire proviamo a pensare invece di fare qualcosa di alternativo perché anche a soggettarsi alla logica il mondo va così significa accettare una sorta di determinismo tecnologico che non è detto debba essere per forza approvato piccolo esempio per dimostrare che in realtà bisogna anche fare attenzione perché non è vero che le cose vanno sempre così il concetto ad esempio di deterrenza nel contesto della cyber war è del tutto inesplorato perché nessuno capisce come funziona la deterrenza quando in realtà tu non stai più facendo una sorta di operazione di game theory con qualcuno che ha il nucleare tu hai il nucleare io so che tu ce l'hai tu sai che ce l'ho io e cominciamo a giocare nel contesto cyber io non so da dove arriva l'attacco l'attacco è fatto da qualcuno che in realtà non è neanche uno stato nazionale io non è che posso dirgli guardate che se mi arrivo comunque vi mando i marines perché comunque non glieli vuoi mandare tanto quindi allora la faccia di deterrenza non rientra più nella logica della game theory che noi abbiamo sviluppato a suo tempo per fare un po' di controbilanciare esattamente gli effetti quindi mi pare che ci sono due osservazioni da fare uno la distinzione tra come vanno le cose e come dovrebbero andare cerchiamo di lavorare su come dovrebbero andare perché magari rimandiamo in maniera diversa e due guardate che le cose come dovrebbero andare non è vero che vanno esattamente come sono sempre andate perché poi ci sono anche grosse differenze e queste differenze se noi le prendiamo in conto finiamo per applicare appunto soluzioni passate a questioni contemporanee che sono leggermente diverse allora capisci che in questa tenaglia dire semplicemente così vanno le cose sono sempre andate quando da un lato stanno cambiando e dall'altro ci dovrebbe essere un progetto alternativo questa linea retta che sta in mezzo dovrebbe cambiare torno sull'algumento non sta cambiando ed è qui la preoccupazione la preoccupazione è esattamente l'impatto che stiamo facendo come se nulla fosse cambiato e come se un progetto alternativo non fosse possibile non è certamente l'unità uno si aspetterebbe da questa grande intelligenza umana che abbiamo esaltato oggi un prodotto migliore del semplice se è sempre fatto così continuiamo a fare così ma su questo lei ha completamente ragione i fatti sono con la cassa voglio tornare un attimo sul suo problema però guardando un attimo un po' di individuazione più che sociale e voi parlare di accantabilità personale più che rispetto secondo me accantabilità è un termine più corretto rispetto alle caratteristiche dell'escritto io vedo molto l'attendente delle persone a delegare partendo da una da un modello meccanicistico di quella che è la tecnologia il modello che ovviamente si scontra con una realtà complessa che porta ad avere questi sistemi di intelligenza artificiale debole dobbiamo parlare in questo modo che sono più probabilistici che meccanicitici e quindi si scontra con un modo di pensare con un somato semplice per la gente comune che tende a delegare e a dare la accountability oltre che lavoro da fare a cuore leggero che se è una macchina che ha le regole e le vendite di te posso delegare e questo secondo me è un problema secondo me di dedication di maturità delle persone che si scontrano con una decisione di viaggio non è come quelle perché non è in modo complesso ci sono i difetti perché stiamo dietro del software il software per definizione ha sempre i difetti e quindi ecco non so se questo cattura altri aspetti questo è il problema sì mi pare che è proprio quello che il punto intorno al quale stiamo lavorando in questo dibattito cioè se uno fa una semplificazione veramente un po' un po' grossolana tra la modernità che si basa sul concetto di certezza di meccanismo da un lato e invece quest'epoca nostra che si basa sulla probabilità e sul concetto di netbook dove non è un meccanismo il meccanismo tanto per l'interno il meccanismo è qualcosa di cui i componenti sono assistanti si mettono insieme per fare un po' cosa di più grande il netbook non ha dei pezzi assistanti che si mettono insieme per fare un netbook il netbook parte da top down al nexa queste cose che le sappiamo le sappiamo per spiegare la bc a tutti e allora se noi abbiamo già questa dicotomia che lei giustamente metterà in luce tra fondamentalmente basata sulla certezza epistemica tanto per esempio e su una meccanicità delle operazioni e quindi sul concetto di causalità e dall'altro invece sulla probabilità il network e le correlazioni è chiaro che lei ha la nostra generazione quella dei viventi non la nostra siamo qui tra i trentenni quarantenni quelli che stanno vidi oggi quelli che hanno visto sostanzialmente vivranno ancora la trasformazione dall'analogico al digitale è la generazione che deve traghettare questa cultura da un punto come dicevamo moderna a quello che sarà domani l'abbiamo fatto troppo in fretta lo stiamo facendo molto in fretta ed è difficile adattarsi ma quando dicevo appunto cerchiamo di smettere di pensare modernamente qualcosa che moderno non è più mi pare mi sembra non vorrei interpretare male quello che l'hai detto ma di stare dicendo esattamente quello che lei giustamente metteva in luce è proprio perché le persone ancora ad esempio pensano alla delega in termini di certezza meccanismo causalità invece di probabilità network che non ci parliamo più allora l'invito è quello appunto come dice lei giustamente di svegliarsi cioè ma non noi non in questa stanza di far sì che quelli che usano in questa stanza tanto per usare una toglia la metafora la filosofia rietrino nella caverna e svegliano con gli altri che stanno ancora per cadere alle cadene a guardare il muro se noi la nostra società continuano a pensare modernamente il contemporaneo allora non soltanto i problemi non li risolveremo ma costruiremo un futuro del tutto ristorto dove i rischi sono altamente pericolosamente delegati a macchine che non gestiamo in maniera sbagliata allora questo io sono completamente d'accordo non so se ho malinterpretato quello che lei voleva suggerire ma ci siamo proprio e quindi è una questione per dirla in parole grosse di education cioè proprio di capire che bisogna get a grip cioè proprio fare i conti con i contemporanei ma non come facciamo ad esempio a corsello oggi dove sessantenni che non sanno la differenza tra internet e un cd legiferano sul futuro perché quello non è il modo di avere a che fare con il futuro purtroppo è una questione del tutto nuova che nella storia umana non è mai successa perché non è mai successo che trasformazioni così radicali avvenissero nel corso di una generazione questo non si è dato l'ultima volta che è successo qualcosa del genere no automobili ma c'è voluto tempi lunghi di adattamento di trasformazione il passaggio dalla prima volta che qualcuno ha stampato qualche cosa al giornalismo quello che no semplicemente pubblicava la rivista sono passati centinaia di anni le prime riviste europee internazionali avvengono nei tempi di Leibniz da moch c'è la stampa eppure perché ci siamo adattati con casi abbiamo fatto errori che poi erano reversibili questa è un'altra questione sulla quale non entriamo oggi ma gli errori che facciamo oggi alcuni di questi potrebbero essere irreversibili e questa la critica io faccio più alla se purtroppo alcuni dei nostri errori che noi potremmo compiere oggi questo è quello che bisogna ricordare agli economisti che hanno ragione quando dicono il mercato potrebbe avere una logica sufficiente per risolvere i problemi given enough time a me quello mi preoccupa è il proprio wave non la logica del mercato è il given enough time che non c'è banalizzo il problema ambientalista forse il mercato given enough time lo risolve come è che non ce l'abbiamo tempo cioè che se continuiamo così nel giro di un secolo noi questo viene l'abbiamo distrutto capace che il mercato c'era più di 10 di secoli e che facciamo diciamo mannaggia ci ha avuto più tempo non può andare allora la decisione di cui ne parla è ora e urgentemente non domani o giorni prossimi direzioni grazie poi lo dico anche molto apprezzato quando lei parlava di cambiare box perché un po' mi ha risposto dicendo che la box nuova è quella della network della qualità però devo sapere dal suo punto di vista quali sono le altre box però assumendo che quella moderna ovviamente non si è più adatta e la seconda domanda in qualche modo legata è che responsabilità abbiamo a questo punto come scuola di ingegneria o come persona a ciascuno di noi che si trova a prendere i posti di opera per andare in qualche modo in questa direzione dove si pretende fare magari di creare i visti che può fare il progetto io confesso subito come avete capito non è che a me proprio i momenti di umiltà mi vengano tanto naturali ma però questo è uno di questi in senso proprio non lo so perché confessare che il box in cui siamo non funziona e non sapere in quale altro box dovremmo inserirci brucia 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 perché proprio tu lo sai che sostanzialmente sei in una situazione che non va cioè che questo modello non sta andando che dobbiamo cambiare proprio ma per cambiare marce cambiare tutto non funziona politicamente non funziona economicamente non funziona dal punto di vista ambientale non funziona in termini di ingegneria di come facciamo la scienza proprio non funziona però al contempo tu sai anche che think out of the box è una scemenza che non bisogna permettere di e come ti raccontavo stamattina la cosa migliore da fare è cambiare il box quello si come si può fare uno esce da questo e entra in uno nuovo ma questo nuovo come l'abbiamo costruito come lo stiamo mettendo insieme questo purtroppo è il finale che avete visto un po' aporetico oggi io spero un giorno di questo di tornare a Nexa e dire ci ho pensato e guardate mi è venuto questo oppure di sentire qualcuno e mi dice guarda Luciano ci ho pensato ed è così lo sforzo va fatto cioè noi non possiamo pensare di mettere la testa nella sabbia e dire boh vabbè ci penserà arriverà qualche cosa qualcuno non è così proprio per la irreversibilità delle cose che stiamo facendo oggi a tutt'oggi 2015 io quest'altro box di preciso non lo so quale sia lo sforzo tuttavia come diciamo stamattina di trovare idee buone va a fare uno si mette dal lato giusto ci si mette l'impegno si siede sulla sedia prova e riprova fa un quattro chiacchiere dirigenti con altre persone intelligenti e aspetta che quella buona idea arrivi quindi su questo sarei poco di aiuto credo di essere di altrettanto poco di aiuto su quando la questione è allora che cosa facciamo noi ad esempio di una scuola di ingegneria perché se uno ci avesse già l'altro box sarebbe facile mollare questo prendere quest'altro il gioco è fatto e l'abbiamo fatto si stanno educa di voi e andare avanti così per sempre a un certo punto si cambia margine no no basta questo non serve per niente da oggi bisogna insegnare calcol e ci vuole il calcolo che non sa di calcolo si cambia nel nostro caso io vedrei però è un'intuizione che non ha grande fondamento di studio vedrei un'ingegneria molto più ma non a parole ma seriamente più legata alle discipline umaniste seriamente il che vuol dire che gli umanisti facessero un po' di ingegneria non che gli ingegneri si mettessero a fare gli umanisti perché gli ingegneri ha una tendenza un po' umanista che la faccio che ce la cure è l'umanista che è proprio ai trattati l'umanista di suo la sua natura l'ingegneria la vive veramente come il demonio perché non solo è matematica ma è matematica è proprio il peggio del peggio allora capace che ammira la matematica ma l'ingegneria proprio no allora l'ingegneria bisogna ricordare una cosa che la storia della filosofia si divide in medievale rinascimentale e moderna grazie a Cartesi e poi moderna e contemporanea grazie a Vintesano dalle parti nostre che è un suo ingegnere e questo ai filosofi scotta provisco non ricordarlo ingegnere militare Cartesi o ingegnere aeronautico Wittgenstein perché la cosa che c'è da imparare dagli ingegneri ma di nuovo mi aggiro nelle intruzioni non nello studio è la capacità di costruire o meglio per dire di design l'ingegnere è uno che design l'oggetto del suo studio questo nel mondo del domani sarà sempre più importante lo fa l'economia lo fa l'ingegneria lo fa l'informatica non lo fa la chimica non lo fa in grande parte almeno la vecchia purtroppo adesso è anche la biologia ma le vecchie discipline sono una disciplina costruttiva insomma le nuove discipline che fanno la storia sono una disciplina costruttiva questa capacità di costruire è una cosa che noi dovremmo studiare meglio capire di più ma lo capiamo soltanto se con gli umanisti e gli ingegneri cerchiamo di metterci d'accordo appunto facendo sì che gli umanisti facciano un po' più di ingegneria perché gli ingegneri non può perché ho gli umanisti in un modo o in un altro sono lo stretto che stanno nel moto quindi allora queste sono un po' le intuizioni di fondo ma sono veramente poche cose rispetto a un problema molto serio che noi abbiamo e che dobbiamo affrontare due una domanda qui raccomando solo un po' di verità perché ci stiamo avvicinando bene sull'ultimo libro scrivere siamo entrati una nota all'istorica una iperstoria diversa dalla precedente per varie caratteristiche per cui la gestione automatica dell'informazione mi correga ragazzi sono non preciso dopo nel tweet che questa iperstoria già avviene dove avviene avviene in alcune città ad alta intensità tecnologica che come lei ha mostrato sarà nel luogo in cui vivrà la maggior parte delle persone ora lei ci fa una domanda la domanda è che tipo di progetto umano stiamo stiamo perseguendo e io provo a fare uno sforzo a viaggiare nel futuro e per viaggiare nel futuro vado in quelle città dove avviene già questo grosso cambiamento e non vado però a New York a Milano io vado a New Delhi vado a Nairobi vado a Shanghai e vado a vedere le condizioni delle persone e quello che la mia percezione è che c'è una società altamente che le vere differenze che si stanno creando non sono più tra stati sviluppati e stati in via di sviluppo anche perché le scrive nel libro non ci sarà forse più il concetto nemmeno più il concetto di stato ma la vera differenza è nella città è nella nella stessa società in cui ci sono persone che possono accedere a un certo tipo di education o hanno o per natura hanno un certo tipo di skills di QI e possono accedere a questa nuova libertà stare già nell'ipestoria e persone forse la maggior parte delle persone che no quindi la mia domanda è questa è una è davvero solo una responsabilità politica filosofica o anche tecnologica nel senso stiamo davvero costruendo le giuste tecnologie sono davvero tecnologie inclusive sono tecnologie che allargano questo divario che diverrà incolmabile mi ha fatto una bella domanda molto importante e al momento anche grazie a conversazioni con Massimo recentemente durante con Ugo mi sarei convinto che in realtà le tecnologie che noi stiamo sviluppando non solo non sono neutre in questo vada la serie banale ma che nel passo successivo non sono uno sono l'altro ma in questo essere altro abbiano anche una sorta di tendenza a fare un po' di più di qualcosa piuttosto che di l'altro spiego la risposta con una piccola analogia quando si dice al coltello il coltello può spalmare il burro o uccidere qualcuno questa è una sciocchezza una sciocchezza perché dipende dal coltello quello che ti passa da prediceo e il spiccolino così senza punta senza lama ma dove vai quello che aveva il burro prova ad ammazzare qualcuno quel coltellino a baglionetta se ci spalmi anche il burro male la confezza è lunga così affilata da due reparti poi è fatta per arrivare al cuore allora sono tutti e due coltelli dual use sì ma uno è dual use per ammazzare soprattutto qualcuno e quell'altro dual use soprattutto per spalmare il burro allora io vorrei sapere le nostre tecnologiche non solo non sono neutre non solo sono dual use ma sono dual use per spalmare il burro o per ammazzare qualcuno e noi ce lo dobbiamo ricordare perché come sono nati queste tecnologiche questo addirittura alcuni dei miei studenti a Oxxo se lo scordano all'Oxxo Internet Institute ce lo ricordiamo da dove siamo partiti questo internet oppure no è dalla difesa cioè queste sono state tecnologiche che sono state pagate sviluppate costruite dal sistema dell'artificio americano il che diciamo molto gradi ma un loro DNA di suo già celato ora ci mancherebbe in modo che tutti possano soffrire un attacco nucleare eccetera eccetera però vuol dire anche che loro dual use per spalmare il burro proprio naturalmente non mi pare che ce l'hanno cioè io avrei raggiunto dopo un po' di tempo adesso rispetto al passato dove ero un po' più ottimista l'impressione che in realtà le tecnologie digitali che stiamo sviluppando siano dual use con uno skew verso una punta piccola diciamo 51 verso 49 per cento a favore del totalitarismo allora questo non vuol dire che non c'è quell'altro 49 non vuol dire che uno non può spingere una parte giusta non vuol dire che esempio appunto del contellino della barinetta esagerato però bisogna fare più attenzione perché allora chi pensa che siano neutre sta fuori da un modo oppure sta facendo il furbo peggio ancora chi pensa che siano dual use che ha fatto come dire il salto al secondo livello dice no sono dual use visto quanto sono furbo non ho ancora capito perché il dual use arriva sempre loaded no? ricordate i coltellini quello che finalmente arriva al terzo livello e dice allora non sono dual use oddio oddio va bene da che parte si buttano qua o di là dovrebbero capire che in realtà mi sembra che siano un pochino un po' un po' un po' un po' un po' più legate al totalitarismo allora se sono totalizzanti questo è il discorso che non ci abbiamo proprio tempo che sono totalizzanti nei confronti della gestione del tempo dell'appiattimento del passato dell'avvicinamento del futuro cioè ci sono tante cose dell'unificazione tra chi potere ce l'ha e chi potere lo gestisce sono totalizzanti nel senso tecnico non banale più più no no possiamo fare un altro seminario da sopra se lo sono allora ha maggior ragione il politico deve essere con la P maiuscola perché allora è la gestione politica della tecnologia che è dual use con un leggermente banale schiu verso il totalismo che deve far sì che fare una direzione più uscola questo mi sembra accostato delle cose attuali se le cose stanno così allora l'impegno socio-politico del passicchio della tecnologia che riluppiamo qua nella direzione di società è ancora più importante che se avessimo assunto che sono neutre e che se avessimo assunto che sono banalmente finfli-finti due use un po' così nucleare ci fai la bomba ci fai l'energia ma non è così ecco questo mi sembra un po' la preoccupazione perché le città che lei menzionava giustamente noi stiamo andando in una direzione in realtà di una associazione al benessere che porta in realtà allo staccamento della spina del socio-politico e l'ha capito se noi stacchiamo il socio-politico è l'unica cosa che fa sì che il dual use skewed verso il totalitarismo non vada in quella direzione allora è il totalitarismo del 51% skewed in quella direzione che fa sì di staccare la spina vada in quella direzione più vada in quella direzione più stacco la spina alla fine quello che il nostro sistema sta veramente promuovendo è un banale consumeristico dove si spera che nessuno rompa le scatole e tutti guardano la televisione lo stiano su intero mettano i gazzini su facebook insomma che ci sia un po' di play perché hanno stato il liberalismo individualista un po' consumeristico dove si spera che nessuno rompa le scatole e tutti guardano la televisione lo stiano su intero mettano i gazzini su facebook insomma che ci sia un po' di play che la nostra società vada in una società in cui ci ammanzeremo di intrattenimento ecco questo è un rischio serio è un rischio che sta tirando l'angolo per cui il socio politico dovrebbe avere una responsabilità di gran lunga maggiore di quella che non abbiamo ancora individuale a parte del secondo box di cui sono una domanda da Marco Ciurgi nel termine sia l'ultimo io poi cerco anche se pare perché mi parlo mi viene da reagire alle cose appena meglio perché vabbè taglio perché sono belle mi piacciono c'è una soluzione perché si sorda anche il problema della mancanza di lavoro aumentiamo il numero di posti politici al 50% per coprire il qui troppo basso così hanno anche un lavoro no però la cosa che volevo dire è questa appunto io non riesco a essere mi piace tutto e condivido tutto quello che hai detto la cosa che volevo segnalare che trovo molto interessante legata a questi discorsi sul piano pratico perché sono uno che opera praticamente sulle cose dal punto di vista legale quindi vado sempre a cercare di guardare qualcosa lì secondo me il discorso molto legato a questo è quello del il modo in cui si stanno riconfigurando le responsabilità dentro il funzionamento delle società delle corporation quindi i modelli di responsabilità personale tipo la 231 per capirci che recuperano la responsabilità personale dei soggetti e vertici delle organizzazioni anche quando c'è responsabilità limitata e quindi teoricamente non ci dovrebbe essere una persona che risponde secondo me sono interessanti oppure la responsabilità della controllante rispetto alla controllata quindi il modo in cui si sta un po' così quando il regime di separazione delle responsabilità nel funzionamento delle corporation delle società secondo me è interessante perché lo penso in concreto se io fossi uno che deve fornire il servizio di taxi senza autista prima cosa che farei è fare una corporation monotaxi ci metto dentro il taxi e così limpero la responsabilità però questo modo in cui si stanno sparinando le box di separazione della responsabilità secondo me c'entra con questo discorso ecco è un'osservazione sì ci sono d'accordo questo mi permette anche di chiudere anche brevemente perché sono d'accordo il concetto di responsabilità che poi è con i confronti dell'accountability la responsabilità la responsabilità richiede richiede intenzionalità l'accountability non la richiede un oggetto o qualcosa un sistema può essere accountable senza essere responsible perché non ha intenzione quindi questo va un po' da sé il concetto di responsabilità si sta un po' sfarinando ma perché in un contesto distribuito è sempre più difficile avere quel modello che parlavamo prima un po' sempliciotto magari del passato in cui c'era un meccanismo c'era la causalità c'era la certezza e quindi c'era l'attribuzione di responsabilità a chi poi aveva fatto qualcosa di sbagliato complicata quel modello lì che non so se si è mai stato reale ma che noi avevamo almeno come concettualizzazione della nostra realtà oggi è stato sostituito da una concettualizzazione diversa in cui la responsabilità è un punto di cui parte tu giustamente si sta un po' distribuendo un po' ovunque ma questo è giusto tra virgolette che sia così non nel senso che è bene che sia così ma è naturale che sia così proprio all'interno in cui il meccanismo è stato sostituito da un network all'interno di un network la responsabilità dei nodi viene un po' distribuita un po' ovunque chi è del nodo responsabile perché tutto il sistema va in una direzione piuttosto che in un'altra questo non vuol dire che la responsabilità non sussista più ma che anche in questo caso dobbiamo identificare un nuovo modello di responsabilizzazione che non sia più quello vecchio allora qui ci sono già modelli nel sistema legale per cui tu assumi la responsabilità di chiunque sia coinvolto a meno che quel chiunque non possa dimostrare di non essere stato lì no in the first place quindi non è che non ci siamo già arrivati è che questi modelli sono il limite in realtà noi parliamo di questi modelli come un po' strani un po' anomali rispetto all'anormalità che è quella tu sei responsabile di tutte le commissioni il CEO secondo me questi modelli invece avranno in futuro sempre più visibilità perché questo di assumere non guilty until true ma in realtà tutti sei responsabili fino a che qualcuno non dice ma io non c'ero poi non ho fatto questo è un classico punto dell'inquinamento del fiume tutte le industrie del fiume sono responsabili a meno che non possano dimostrare che l'industria una, due, tre non abbiano fatto questo è un modello a responsabilità distribuita di cui abbiamo bisogno oggi questo è già stato iniziato da qualcuno cioè ci sono già in giro e c'è che sperare perché vuol dire che il fenomeno è solamente in luce ci stiamo già facendo quei conti i conti ci stiamo facendo perché dobbiamo farci nel senso che la realtà non aspetta un futuro posticipato la visione che ho preso ora e quindi i modelli li stiamo utilizzando con questa nota un po' ottimistica chiuderei così grazie a voi 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 grazie a voi